amici di twitch buonasera a tutti come state che palle andrea io un giorno di questi ti faccio ti faccio fuori ti faccio fuori metaforicamente parlando ovviamente come state no a me no brian t'ha fatto ride sta cosa è una cosa stupida assolutamente no ciao ciao come state come state allora allora prima di passare subito alla nostra live quindi a brian che ringraziamo fin da subito di essere qui grazie mille brian box grazie a voi e noi andiamo a dire l'obbio ossia quello che dovreste già conoscere tutti però è sempre bene dirlo all'inizio così non lo diciamo più allora ciao ciao mod un saluto anche a tutti i nostri vip allora ricordiamo i comandi chat punto esclamativo telegram che rimanda al nostro canale telegram ufficiale dove in anteprima rispetto a tutti gli altri social avrete programmazione momenti clip momenti meme eventi digitali e non dove siamo coinvolti vi prepariamo i nostri ospiti ad esempio oggi per brian abbiamo messo un bellissimo showreel dove vi 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 introduce un po no al nostro ospite che è veramente veramente strepitoso quindi iscrivetevi perché gratis insomma non costa nulla c'è la nostra mod che posta e voi subite passivamente però messa così non è molto invitante però invece si invece voi subite passivamente subite passivamente esatto invece io mi avresti clippato non è vero io l'ho detto perché adesso c'è invece il punto esclamativo sub andrea che cosa fa il punto esclamativo sub il punto esclamativo sub vi rimanda il link per sottoscrivere un abbonamento a questo canale che è gratuito per tutti coloro che hanno amazon prime mentre un costo crescente da 3 ore 99 in su per tutti gli altri i vantaggi sono le emoticon personalizzate in chat l'assenza di pubblicità in diretta quindi non verrete mai interrotti durante le nostre dirette da quelle pubblicità che vengono lanciate su twitch potete recuperare tutte le dirette abbiamo fatto da più a due mesi e poi potete entrare nel gruppo del sub su telegram che a differenza del canale vi dà modo di interagire non solo con noi che magari anche una cosa interessante però con qualche ospite che abbiamo avuto soprattutto quando parli poi con l'orna che sono la più interessante di tutti capito che vengo screditata così ma la cosa veramente importante è che ci sono alcuni ospiti che abbiamo già avuto con noi nei talks per esempio nel mondo del doppiaggio massimo triggiani carlo cosolo e lorenzo chis se non sapete chi sono recuperate le dirette abbiamo fatto solo perché si sono abbonati come me adesso cioè adesso mi invitate bra loro sono aspetta è vero ragazzi fate tutti come brian che si è abbonato bravo ha dato il buon esempio quindi fate tutti come brian adesso brian ovviamente se vorrà perché non è un obbligo è una libera scelta verrà introdotto dalla nostra jackie al gruppo telegram per gli abbonati insomma volentieri chiaramente uno di quei gruppi che metterò in muto però sì volentieri no sto scherzando puoi farlo apprezziamo la sincerità apprezziamo la sincerità quindi diciamo che forse risponderà tipo l'osservatore esatto dai adesso rapidissimi punto esclamativo ospite molto importante vi rimanda ai social di brian quindi andatelo a seguire su instagram seguitelo su twitch perché fa cose molto fighe e datevo anche un'occhiata al suo sito web lorna cosa fa punto esclamativo quote questo me lo dite bene perché una cosa ci abbiamo solo noi certo sì infatti una funzione che abbiamo solo noi con punto esclamativo quote diciamo si pesca in un calderone di quote dette dai nostri ospiti ma purtroppo anche da noi frasi storiche perle di saggezza ad esempio rutto sei di grisafi è uno dei miei preferenti però ci sono anch'io lì in mezzo sono finita purtroppo contro la mia volontà nel calderone leggiamone leggiamone qualcuna alitosi pecorina detta da dato quando è stato in diretta da noi tranchi spanchi di roberto chevalier non te fa guarda dietro lucio da massimiliano manfredi cioè ce ne sono veramente tantissime quindi orizzontalmente accessibile quindi vedo che l'ho spammato 149 no 149 sono 149 oggi brian probabilmente dirà la 150 speriamo anche perché ho scritto quote in chat mi è uscito chi deve sminuire gli altri per sentirsi grande un po raccio c'è mandata proprio per la disagezza esattamente diciamo che una delle poche frasi storiche che effettivamente ha un suo senso che può essere utile pescare gli altri sono tutte fighe ragazzi non andate retta andrea cinquantotto ragazze numero cinquantotto che è questo facciaro che fa è come dire io sono cristiano non è che non è che aspiro a diventare gesù cristo c'è quella cosa a me proprio la cinquantotto casualmente poi punto esclamativo vive social partner con la quale collaboriamo punto esclamativo partners i nostri partners che sono j daru le voci del doppiaggio roba da doppiatori e poi punto esclamativo commercio abbiamo finito brian siamo stati veloci velocissimi ma io ciao a tutti mi presenta è bello è strano raga posso dirvi che è strano è strano essere da intervistatore da conduttore strano essere intervistati è veramente strano sì è bello da una parte da una parte ah ok quindi scopriremo anche la parte che dove non è bello esatto no noi non ti presenteremo perché abbiamo mandato sul canale telegram questo questo show reel però porteremo anche chi non ti conosce a conoscerti durante il corso di queste due ore cioè nel senso il format è conosciamo la persona dietro al professionista prendendo anche spunto da quello che ha fatto a livello professionale non deludervi più che altro perché ho visto che avete avuto gente incredibile anche amici alcuni amici quindi no sarà le mani e vediamo che succede assolutamente no sarà fighissimo sarà fighissimo grazie grazie mille figurati grazie a te per essere qui con noi e io ti andrei a fare subito la prima domanda che è l'unica che abbiamo perché poi andiamo fantastico ok che è questa allora ti anticipo che ha messo in crisi molti molti ospiti perché alcuni hanno detto che mi sdraio mi psicanalizzi ti do i soldi però secondo me è carino vedere come ognuno di voi si vede quindi la domanda è questa chi è brian non tanto dal punto di vista professionale perché andremo poi a parlare dopo quanto dal punto di vista di brian stesso quindi come ti vedi tu a livello di passioni hobby e aspetti caratteriali che esulano l'aspetto professionale che domanda assurda c'è veramente una domanda non me l'ha mai fatta nessuno alzo le mani di nuovo per la seconda volta che non tornerò a farlo oggi fortunatamente ci sono un vestito sotto quindi tranquilli wow chi è brian allora io sono quindi non professionalmente cioè no 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 alieno personale partiamo dagli aspetti caratteriali e poi arriviamo alle passioni agli hobby ok allora sono una persona molto determinata in generale nel senso che e soprattutto iperattiva quando quando sento che sta per finire un progetto qualcosa c'ho l'ansia che le cose è come se quando ti bolle l'acqua della pasta capito cioè è proprio e quindi sono irrequieto ho bisogno nascono delle cose dentro di me e non riesco proprio a fermarmi e devo in qualche modo creare qualche sono un creativo probabilmente sono un creativo se non lo so è strano definirsi perché poi non amo molto l'auto celebrazione non parlo mai molto di me come per chi magari mi ha seguito o per chi mi seguirà conoscerà un personaggio che ama intrattenere che si è formato per strada che detto così sembra che sono andato a elemosinare in realtà la mia storia è molto particolare se volete poi vi racconto sì assolutamente se dovessi definirmi io ho ballato breakdance 13 anni insegnato 10 anni breakdance sono laureato in architettura lavoro a radio 100 c'è capite che non ha se cioè quello che ho fatto è totalmente scollegata e sono un nerdaccio schifo c'è proprio ho fatto e sport anche per tanti anni il videogioco è l'unica costante della mia vita dal punto di vista delle passioni però credo di essere un grande casino un grande casino che però mette sempre al primo posto la parola se ti do la parola è quella non ci sono cavoli cioè vale più di un contratto per quanto mi riguarda odio le bugie da morire non riesco ad essere proprio bugiardo è più forte di me mi viene proprio la dermatite e c'è non lo so non so definirmi perché giuro non me l'hanno mai fatta questa domanda e sono un po in crisi ma sicuramente sono una persona molto appassionata e che è che ha sempre deciso di sempre avuto voglia di di fare di più di più che non vuol dire a voglio diventare famoso voglio tutte quelle robe lì vuol dire fare no c'è quella spinta innata che dice devi fa devi costruire qualcosa devi creare rapporti creare un network di persone che stanno bene e soprattutto creare dei progetti che nascono da te ma che poi diventino anche progetti delle persone che coinvolgono che ci mettano il cuore in quello che fanno quindi fondamentalmente questa è un po la visione romantica di me però giuro che sto sparando in mezzo al mucchio perché è un casino beh bello però dai hai fatto un bel ritratto anche poi prendendo le le tre macro aree no c'è break dance da un lato laurea in architettura dall'altro e speaker cioè intrattenimento perché poi ho fatto i villaggi turistici per una cosa ho detto solo cose positive giustamente uno quando si presenta per la prima volta devi dire solo cose sono un ansioso cronico cioè la mia ansia è stato sempre il mio motore non ansia ad arrivare ad attacchi di panico è un'ansia un'ansia proprio che potrebbe essere declinata come costruttiva quando in realtà poi quell'ansia adrenalinica chiamiamola che però quando tengo davvero tanto le cose mi ricordo quando quando doveva partire la seconda stagione di the box durante la pandemia in zona rossa un progetto che è costato tantissimo e che ho fatto praticamente quasi tutto da solo nella nella creazione anche trovare i sponsor è stato un delirio durante il lockdown quindi vi lascio immaginare sono arrivato alla prima puntata di the box il primo late show su twitch magari qualcuno l'ha vista adesso magari poi guardo anche la chat perché sono preso a parlare quindi non sto riuscendo guardare la chat e mi ricordo che la prima puntata l'ho fatta praticamente avevo paolo cannone che è uno streamer di twitch non so se lo conoscete e giulia penna che è una influencer di instagram con la band il mega studio una roba pazzesca sono arrivato con una sorta di ulcera nello stomaco io ho fatto la puntata che stavo così durante la puntata durante il break stavo proprio piegato c'era giulia penna che mi diceva ma che hai tutta poi non voleva toccare che c'è il lockdown però virtualmente capito mi stava e quindi l'ansia mi divora no che anche però il motore che mi fa poi reagire in quel modo e per quanto riguarda le macro aree di cui stavi parlando in realtà quando io parlo che mi sono formato in mezzo alla strada è perché questa cosa dell'intrattenimento ce l'ho sempre avuta cioè da quando vai al bar a prendere il caffè con un sorriso puoi fare la battuta al barista capito e creare una connessione al dal panettiere alle poste con quello che è scoglionato perché deve pagare i bollettini a dare la pensione ai signori di 80 anni magari gli dico una cosa e non la capisce tante volte succede anche mia nonna purtroppo le voglio bene però succede e quindi mi sono allenato così poi vabbè ha fatto l'animatore nei villaggi turistici e tutto quello che potevo fare per farmi un mazzo tanto e imparare quello che non potevo imparare in altre occasioni io sono di pescara non sono cioè io sono in una piccola città sul mare che pescara di 120 mila abitanti dove il massimo è mangiare gli arrosticini e il calcio e il mare è capito buonissime arrosticini fondamentalmente quello è un po e quindi ho sempre voluto andare un po oltre no e superare qualche limite basta continuo a parlare se no faccio tipo monologhi non sono abituato eppure parlo guarda incredibile questa cosa no no è figo quindi sei tu quello che balla nello showreel sì sono io è stata cavolo allora l'esibizione è forte 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 è un programma della rai che è andato in onda nel 2015 mai più perché penso sia fallito è costato un putiferio prodotto da ballandi con la dove la star è raffaella carrà tant'è vero che il programma si si ispirava forte 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 che è un disco di raffaella no in quell'occasione dovevi mostrare le tue la tua versatilità io non ero ancora arrivato a radio 105 ero ancora pescara facevo ancora l'animatore feste matrimoni compleanni comunioni ho animato filate nei centri commerciali di abiti da sport cioè qualunque cosa nei peggiori bar di caracas anche a volte e niente quindi sono fatto questo show cercavano uno che sapesse cantare ballare muoversi e intrattenere quindi le prove erano tre nella puntata però io poi ho fatto questa puntata la prima puntata sono fatto mille provini così sono arrivato in puntata in puntata non me lo è stata tagliata e faccio questa esibizione dove canto e ballo io non so assolutamente cantare quindi ci inventiamo con gli autori una canzone che è quella di zucchero per colpa di chi fatte il rap stupido sotto la base di michael jackson don't stop till you get enough quindi io mentre cantavo sto rap stupido di ballavo michael jackson finito quello c'è il pezzo di breakdance finisce l'esibizione e raffaella carammi cassa cioè uno dice sì quell'altro sì e lei dice nostro breakdance bravo il resto lascia perdere quindi pure la parte intrattenimento cavolo io dovevo decidere se mollare tutto lasciar perdere questa mia verve nell'intrattenere oppure no comunque te lo dice raffaella carrà mi sono ricordato che fiorello storicamente è stato cassato da pippo baudo allora ho detto vabbè dai facciamo finta che potrebbe essere cioè prendiamola come scusa tre mesi dopo sono arrivato a radio 105 comunque su un network nazionale dove contava tutto meno che la parte visiva no quindi voglio dire alla fine ci si può anche sbagliare pace all'anima sua poi la salutiamo raffaella dall'alto dei cieli immagina immagina che adesso potrebbe dire l'ho scoperto io come fa pippo baudo ogni tanto no tutti gli artisti praticamente non potrebbe perché perché non beh dall'alto dei cieli ah sì dall'alto dei cieli beh dall'alto dei cieli ti guarda e fa con gli altri e magari magari si prende anche il merito dicendo vedi è stata quella critica che gli ha dato il via per in realtà vi racconto vi racconto il vero bivio perché io credo che tutti noi abbiamo avuto alcuni bivi nella vita ce n'è uno probabilmente che tutti noi ci ricordiamo adesso se uno si mette lì un attimo e pensano a quello che fa oggi e al bivio lo trovo io ce l'ho avuto facevo animatore nei villaggi turistici era il 2011 grande hotel serena a torre canne in puglia e facevo animatore l'animatore proprio quello classico che rompe le balle sotto all'ombrellone insomma non avevo ancora utilizzato il microfono in villaggio io ho mille passaggi in realtà io ho iniziato mi sono innamorato del microfono presentando le mie gare di breakdance che organizzavo io a pescara non avendo i soldi per pagare lo speaker l'ho iniziato a fare io e da lì mi sono ammalato di sta cosa però poi nei villaggi non ho mai utilizzato il microfono perché io ero animatore di contatto quello simpatico andava sotto all'ombrellone faceva amicizia ti coinvolgeva no era quello che facevo un giorno facevo questo appuntamento di breakdance un tipo un mini corso semplice per chi volesse provarla veramente faceva cose base no in piscina il pomeriggio il mio cavolimatore sergio trullo che lo saluto non mi guarderà però sti cavoli praticamente mi fa oggi lo presenti tu cioè tu oggi inviti la gente a venire alla tua attività breakdance mi dà il microfono e io un pomeriggio a tutti allora tra poco attività breakdance point break sotto la piscina mentre stavo parlando arriva lui prendi strappa il microfono dalle mani c'è che cazzo fai c'è proprio pesante mi ha smerdato davanti a tutti ma proprio senza peli sulla lingua sergio prende il microfono e fa buon pomeriggio a tutti allora benvenuti tra poco quindi mi fa mi fa vedere mi mi smerda totalmente davanti a tutti e mi dà una lezione molto importante è stato quello il bivio era stato quello il momento dovevo decidere se mollare tutto e lasciar perdere questa cosa oppure dire sai che ha ragione cioè usare il microfono non è cioè ci vuole una un'energia no una carica e porca miseria quello è stato il vero bivio poi la cara è stato uno dei vari scogli no che tu devi cercare di superare anche moralmente emotivamente però non è stato quello più importante sono nei villaggi turistici undici anni fa con sergio trullo che mi ha smerdato davanti a tutti piscina particolare molto 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 in realtà è una cosa che ti torna no cioè nel senso ti torna eccessivamente nel senso che vedendo anche i contenuti che fai e c'è molta energia c'è molto ritmo c'è molta ricerca anche del suono quindi alla fine è stato un insegnamento che è diventato base di tutto quello che poi hai costruito di tutto che poi poteva immaginarsi che dal 2011 al 2015 nel giro di quattro anni da quel momento no potessi poi iniziare una carriera in un network radiofonico senza aver mai fatto radio sono uno dei pochi esempi non raccomando mi fa essere cattivo ho avuto un'opportunità perché allora cosa è successo io mi laureo inizio 2015 e il mio compagno di tesi mi ha fatto questa tesi il restauro mi fa brian guarda dopo un mese dalla laurea mi manda un link e c'era scritto che radio 105 cercava tre speaker in tutta italia nuovi speaker giovani io avevo 28 anni quindi più o meno giovane per andare a expo 2015 sei mesi dentro expo tutto pagato più stipendiato per un progetto legato a mcdonald's in cui non so se siete stati a expo a milano in expo in questa geometri di manifestazione c'era un ristorante mcdonald's ok all'aperto questo ristorante è stato uno dei primi più tecnologici poi da lì sono partiti tutti i totem che vedete oggi per ordinare partono da expo 2015 praticamente c'era una sorta di piccola radio al di fuori di questo mcdonald's un cubotto lo chiamavano il cubotto di radio 105 hanno fatto una selezione nazionale cercavano tre speaker che dovevano saper fare oltre allo speaker radiofonico intrattenimento live perché c'erano attività di intrattenimento live e che sapessero manettare con i video no videomaker o comunque un po social instagram non era ancora l'instagram di oggi era ancora l'instagram che posto le foto sti cavoli c'era facebook il king dei social in quel periodo quindi provo questa selezione per un mese e mezzo studio la radio inizio ad ascoltare la radio io prendo appunti mi cronometro i clock perché io non tecnicamente era un ascoltatore di radio dj lo devo dire ad accento mi spiace ascoltavo tanto anche 105 ma dj di più inizio a studiare tutto e confezione a tre demo radiofoniche chiaramente super scriptate faccio un video molto simpatico con una pianta storia lunga faccio questa selezione nazionale su più di 400 persone idonee cioè che il materiale poi arrivato era idoneo prendono tre persone due speaker e brian che era faceva quello che gli altri non facevano fondamentalmente però è stata un'ennesima prova cioè fare radio da zero iniziare questo percorso all'interno di expo cioè è come quando uno vuole imparare a nuotare lo lanci dentro l'acqua e fa così quindi sono passati sette anni mi rendo conto che di strada anche professionale ce n'è stata e quindi ho avuto fortuna da una parte dall'altra anche un po di tenacia perché rischi rischiavi di affondare poi ce ne sono tanti di aneddoti ma se no vi rincoglionisco anzi la chat vi voglio bene ma loro loro sono tranquilli loro sono tranquilli a tra l'altro la cosa bella penso e è giusto secondo me menzionare che sottolineare questa cosa sei secondo me un folle perché è una persona che porta il format classico del del talk show americano quindi con la band che suona dal vivo il set costruito la regia quindi diverse preoccupazioni non solo a livello di illuminazione ma anche a livello proprio di macchine da ripresa e la televisione su twitch praticamente esattamente cioè è veramente da folli e essere diciamo tra quei folli che per primi cioè per primo l'ha pensato cioè ha pensato perché no è sicuramente non solo pensato ma anche realizzato perché insomma io posso pensare quello che voglio però poi alla fine dal pensiero alla realizzazione in quel modo con quello stampo cioè è veramente veramente tosta e lui è stato bravissimo veramente da zero a pensarlo e a dargli vita come gliel'ha dato quindi complimenti bravi assolutamente complimenti ma sappi che continuerai ad essere un folle nella mia valutazione perché era impensabile una cosa del genere anche perché insomma è molto impegnativo molto dispendioso e altro che urcera qua no no ragazzi poi allora ecco ho imparato mentre lo facevo ho imparato a fare il commerciale cioè a vendere a fare marketing cioè io praticamente non avevo mai fatto una cosa del genere la prima stagione di avevo fatto due stagioni di box e adesso anzi lunedì ci sarà l'ultima puntata di outside the box che è un'altra cosa un altro talk abbiamo fatto 16 puntate faremo 16 puntate lunedì è stato veramente un un esperimento incredibile anche questo un po più piccolo ma comunque dispendioso costa mantenere uno studio televisivo costruire una squadra io the box la seconda stagione di box sarebbe il jimmy fellon di twitch tonight show di jimmy fellon di twitch dove ho avuto anche grandi ospiti no del mondo dello streaming e non solo c'è da dio toby che è stata l'ultima puntata della seconda stagione per me chiudere con karim vabbè io su karim ho un aneddoto incredibile se volete poi ve lo racconto perché voi sapete che lui invece è stato il primo a portare un late seppur con mezzi ridotti ma io toby ha portato il late show su youtube è stato il primo no e vabbè poi ve lo racconto questo aneddoto e quindi niente io prima stagione faccio the box start upona come ho fatto intanto io non avevo idea di come si facesse uno start up io una srl adesso ma cosa faccio vado da un mio amico un imprenditore di 60 anni manuele gli dico manuele io non c'ho un euro ma ho un'idea è un'idea folle ho un sogno però siamo i primi al mondo a farla cioè non l'ha fatta nessuno ancora un periodo in cui gli streamer erano in cameretta cioè nel senso adesso è più facile vedere streamer in tv piuttosto che in studi televisivi qualcuno ci prova no chi ancora nessuno è arrivato a quel tipo di standard posso ammettere in maniera molto grande orgoglio ma mi rendo conto della difficoltà però comunque vedere studi no situazioni un po più curate è più facile all'epoca no era impensabile ancora e quindi io voglio fare un voglio fare un late show che magari david letterman io ho dovuto dire per una questione anagrafica sua perché jimmy fellon magari non sa neanche david letterman di twitch cioè portare gli streamer dalla cameretta dentro uno studio televisivo start upona mini team lì il marketing non lo curavo io e ringrazio chi mi ha aiutato in quel periodo però io in maniera indiretta un po apprendevo ma non mi rende so molto che tipologie di ansia potessi avere nella prima stagione perché cioè ragazzi si scherza con svariate migliaia di euro ok cioè svariate migliaia di euro che oggi ripensate ma io come ho perché l'ho fatto sono scemo cioè io stavo rischiando tutto io non ce l'ho questi capitali non potrei neanche rischiare infatti Emanuele il mio socio mi ha detto che avrai io non ho idea di che cacchio stai parlando però so come funziona una società e l'anticipo iniziale te lo metto io poi non è servito perché io in quattro mesi gli ho portato tutti i soldi che sono serviti per realizzarlo però grazie al suo supporto e aver creduto in me in quel caso e secondo me a volte ci vuole qualcuno che creda in te allora siamo riusciti a farlo poi la seconda stagione è stata folle perché ho triplicato gli investimenti durante il lockdown nella zona rossa ci ho lavorato quindi quello è stato ancora più folle per quella l'ulcera è proprio morto e poi insomma il resto il resto è storia e sono molto fiero twitch chiaramente ha un occhio di riguardo per quello che abbiamo fatto perché nel mondo non era mai stato fatto posso dirvi una cosa di cui sono molto fiero non l'ho detta nessuno non lo sa nessuno non l'ho pubblicata e mi è arrivata una mail qualche giorno fa se voi dovete sapere che una volta l'anno c'è il twitch con sono due anni che non si fa a berlino c'è stato il primo twitch con europe io stavo finendo la prima stagione di the box e siamo andati al twitch con al twitch con durante lo speech lo speech generale di marcus graham che uno dei director dei twitch studios san francisco c'è stato uno speech e durante questo speech finale immaginate io ero lì e non potevo non sapevo questa cosa lui dice alcune realtà incredibili come the box from italy io così bellissime mi ha dato un colpo e c'erano i miei colleghi no i streamer che c'era 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 curo lì c'erano guardati tutti quanti io stavo per mettere a piangere c'è proprio emozionato perché cavolo vuol dire che abbiamo colpito quest'anno qualche giorno fa mi è arrivata una mail lo dico tanto poi magari va in porto magari non va in porto in realtà devo ancora buttare giù le idee twitch con torna ad amsterdam quest'anno non hanno ancora comunicato le date ma sarà luglio mi ha mandato un'email e mi hanno scritto abbiamo selezionato pochi talent in tutta europa per a cui abbiamo chiesto di proporci uno show di 90 minuti da fare sul glitch stage al twitch con main stage che lo vedrà tutto il mondo quindi mi hanno chiesto di produrgli un format cioè di mandargli un'idea per un format da fare sul glitch stage di twitch mamma soddisfazione io devo mandare risposta entro lunedì sarà uno show tutto in inglese no ovviamente però un po d'ansia c'è perché un po non è facile anche solo pensarlo non ho ancora idea domani devo scriverla sta roba non ho ancora idea di cosa scriverò però sono molto fiero di questa cosa e non l'ho detto mai lo sa la mia ragazza cioè per farti capire chi lo sa è un mio amico ma non l'ho detta ma non lo dirò probabilmente adesso lo dico a voi siamo tra amici ci sono un po' di persone in chat però ecco sono sono contento che comunque twitch riconosca poi il lavoro fatto da un pirla qualunque che ha deciso di investire su una piattaforma che fondamentalmente posso streamare anche io che dormo no cioè nel senso e succede quell'investimento è stato bello alto no sia a livello di lavoro che a livello di non ho mai guadagnato un euro ma non ci ho mai perso un euro e quindi questa cosa qui a me va bene tanto una spinta che ho da dentro non è che me lo ordina il dottore poi ovviamente ci sono i momenti di crisi ragazzi come in tutte le cose ci sono i momenti di down in cui non ce la farò è impossibile è andato ho perso ho perso sponsor che sembravano entrare all'ultimo e poi non sono entrati e porca miseria là ti caghi addosso vi dico vi racconto questo tanto ormai siamo arrivati alla fine che me frega ormai sai The Box il talk show che ho fatto quest'anno costa un terzo di massagione di The Box è un po' più piccolino c'è stato grande investimento anche da parte dei miei collaboratori con chi mi ha aiutato comunque sai no ci si viene incontro hanno creduto in una mia idea folle e io ad un mese da qualche giorno dall'inizio dello show avevo un terzo del budget mi stavo proprio cagando sotto cioè detto così poi ragazzi non lo so i colpi di reni secondo me a volte fanno più di tanti mesi di lavoro no cioè provarle tutte cazzo adesso non vi racconto le dinamiche però ci sono brand che sono entrati all'ultimo che ora sono contentissimi per com'è andata quindi insomma ringrazio sia quelli che sono entrati prima ovviamente quelli dell'un terzo del budget ma anche quelli che sono entrati dopo e anche quest'anno siamo riusciti sono riuscito a non finire in bancarotta ecco quindi vivo la mia vita così a un quarto di bancarotta alla volta però non sarà questa la quota secondo me c'è ancora tempo la diretta è ancora lunga quest'anno a proporre nuova frase tanto se mi arrivate alla fine che ce frega ecco infatti il romano poi dice io pescarese vivente a milano che te lo dico il romano cioè prova bene esatto ti piace ti piace la inseriamo la inseriamo tanto ne inseriamo pure più di una è la 150 la 149 era c'è Phil Collins che mi viene dietro dietta da Alex Polidori la spanchi la battezzata spanchi si si spanchi la battezzata quindi è tanto mi piace che io non sono doppiatore raga cioè nel senso no no ma questo è un format che diciamo che il format è pensato per invitare le eccellenze in tre macroambiti che sono recitazione e doppiaggio da un lato tutto ciò che è ruota intorno alla cultura pop quindi fumettisti, sceneggiatori, personaggi televisivi e terzo macroambito sono diciamo tutto ciò che è ruota intorno agli show e alla creazione di contenuti io sono tra radio e show diciamo esatto però sicuramente sei le l'altro lunedì c'era Gianandrea Muia ospite da me ad outside abbiamo fatto una bella puntata su GDR sul gioco di ruolo io sono totalmente auto da quel mondo e mi hanno raccontato veramente un sacco di robe super fighe c'era anche Cikibe c'era anche Nicola De Gobbi c'era proprio una bella puntata se vi va poi sul mio canale potete recuperarle tutte assolutamente tutte le stagioni di cui stiamo parlando e gli ho fatto Gianandrea porca miseria cioè io lavoro con la voce ma quello che fai tu zero l'ho detto anche a Pedicini che è un amico anche compaesano cioè gli ho detto Roberto ma come c'è pazzesco poi Roberto fa anche la radio che lo saluto Roberto è un amico lui fa anche la radio quindi lui è in entrambi i mondi lui è innamorato della radio e pensate un doppiatore storico navigato come Roberto Pedicini che però muove passatemi molte tra virgolette i primi passi in radio e le emozioni con cui lui vive questa cosa dopo aver lavorato con la voce per tutta la vita però la radio gli ha dato un altro quindi io sul doppiaggio la recitazione sono proprio il male però sicuramente sei un'eccellenza nel tuo settore quindi insomma rientri a tutti gli effetti è bello sentirselo dire una volta nella vita grazie è vero non te lo dice mai nessuno non te lo dice scusami è negare l'evidenza credo ci sia stimato gli addetti ai lavori però sentirselo dire non è la stessa cosa ve l'ho detto all'inizio io sono qua grazie allo stalking di Andrea Andrea è uno stalker molto bravo ma molto cortese devo essere sincero quindi voglio fargli complimenti perché non ho potuto resistere alla sua cortesia nella mail avrei partecipato comunque Andrea adesso non ti casare però però sei stato molto cortese se no io sono abituato a intervistare e a far uscire le cose dagli altri tante volte utilizzo anche il metodo maieutico non so se lo conoscete io neanche in realtà sono un po' profano cioè non lo conosco dal punto di vista tecnico però è un po' come se tu crei il viaggio ti rifuoi dalla persona tutto quello che e costruisci intorno a quella persona no? è una cosa molto bella perché sono arrivato al metodo maieutico? ah non lo so niente mi sono dimenticato perché ti stavamo chiedendo se nessuno ti fa mai questi ah sì per i comprimi eh vedi ma no è difficile cioè tra detti i lavori magari sì sanno tutti quello che faccio no? soprattutto nel mondo dello streaming e anche di Twitch ma non solo in realtà perché fortunatamente il progetto è stato conosciuto cioè è andato anche al di fuori di questa cosa però sai sentirselo dire cioè io spesso dico ai miei cavolo sei proprio bravo a far sta cosa no? ai miei intervistati no? ai miei ospiti oppure c'è stima no? perché comunque nel momento in cui tu stivi cioè intervisti qualcuno e poi scegliere la linea editoriale vuol dire che stimi tendenzialmente quelle persone no? eh non abbiamo una rete che ci obbliga a intervistare la subrette rincoglionita cioè questo è un po' il concetto no fortunatamente no non ci sono quindi senza nulla togliere subrette rincoglioniti che servono ovviamente anche loro come i subrette rincoglioniti cioè nel senso c'è tutta questa cosa però per dire è bello sentire solo dire ogni tanto in maniera diretta quindi vi ringrazio psicologo ma oggi mi sento veramente lo psicologo vero 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 dopo ti arriva anche la tariffa oraria poi c'è come dicevo Brian alla fine se poi Twitch stessa insomma ti riconosce no? dicendoti ok ci scrivi questa cosa ci mandi una bot anche loro indirettamente se vuoi ma ti stanno dicendo certo no no ma certo sei un'eccellenza certo quindi insomma sei sei più che azzeccato io ti ringrazio per essere venuto qua e per non avermi ma grazie a voi mi si diverte un casino quindi grazie di non avermi bloccato no ma lo farò dopo ah ok ok grazie per vero Andrea Andrea Brian non può dire cose cattive su di te cioè volendo le può dire però insomma secondo me è molto carino a non dire cose brutte su di te in diretta però in realtà sappiamo tutti quanto sei una persona poco raccomandabile anche molto stalker quindi no ma siete un bel gruppo siete un bel gruppo no dai ragazzi devo andare ciao stai Andrea non te ne andare non te ne andare no potevamo togliercela dalle scatole Brian l'hai fermato no che poi in realtà è inusuale vedere il man e Andrea anche solo farsi brecciatine perché ti sono ma vedi che l'altro giorno sono andato in live da solo gli ho tolto il nome suo ci ho messo il nome mio si è offeso ma sì bisogna divertirsi bisogna divertirsi si è offeso no non mi sono offeso ho detto ammazza addirittura hai tolto man per metterci Andrea perché e beh ce sto io in diretta vabbè Lorna allora dato che oggi hai parlato molto poco tu sei una che chiacchiera praticamente non se la riesce Lorna poi la domanda è qui da Lorna e quindi Lorna ti dico facciamo sentire a Brian una tua frase storica sì forza si inizia con gli uccelli vogliamo mettere guarda Brian ti prego non chiedere perché qualsiasi risposta di Tarano sarà decontestualizzato e mi metterà in cattiva vabbè vabbè ma è bello è bello della diretta e questa è una delle più soft che ha detto mi dico siamo con un po' di ritardo un attimo faccio un F5 adesso ritorno adesso ritorno ci sono provate a parlare provate provate Brian sì ok adesso andiamo in sincrono bravi ecco prova prova ok ok vai Lorna devo fare F5 anch'io no 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 solo io solo io ho fatto un F5 rapido vuol dire aggiorna Lorna aggiorna imparate i due termini tecnologici fai la tua domanda noiosa Lorna e beh sì allora guarda la faccio un po' meno specifica del solito perché prima Brian hai menzionato comunque la parola nerd sì e questo ci piace sempre molto e quindi volevo chiedere nerd ci sono tanti tipi di nerd che tipo di nerd sei cosa segui cosa ti ti strappassiona io sono nerd a modo mio però sicuramente alcune delle mie passioni fanno parte dell'orbita nerd no chiamiamola così sicuramente il gaming è la primissima cosa cioè proprio ho sempre videogiocato da che ne ho memoria addirittura quando mi ricordo forse un'amica dei miei genitori io ero piccolissimo vabbè insomma un'amica 500 bellissimo al compleanno di sei anni mi è stato regalato io ho 35 anni mi è stato regalato il il NES il Nintendo quello che facevi e poi dovevi soffrire nelle cartucce non so se vi ricordate il primo Nintendo con Super Mario Bros e Duck Hunt c'era proprio il pack il bundle e lo vendeva giochi preziosi ragazzi per fartemi capire giochi preziosi che il videogioco era considerato un giocattolo negli anni 90 no e quella è stata la mia prima console amore spassionato e da lì ho avuto tutti i Nintendo fino alla Wii esclusa considero anche il 64 perché poi sono passato a Playstation no in realtà il mio amore folle dal 2001 da quando ho la DSL il primo DSL 256K io non sono di quelli che ho avuto la fortuna di avere la linea ISDN quindi sono passato da un 56K con i primi abbonamenti flat no dove tu la notte dopo le 8 avevi potevi non scattavi cioè non scattava il contatore del telefono no quindi dalle 8 alle 8 avevi questa finestra di 12 ore in cui tu e io mettevo a scaricare ma scaricare che col 56K per scaricare una canzone ci mettevo un'ora e mezza cioè per farvi capire Napster sì Napster ragazzi mi è sbloccato insomma da lì dal 2001 il mio vero amore ho tutte le console quello che vuoi è il PC PC gaming e il gaming competitivo sono un vecchissimo giocatore di Counter Strike non so se qualcuno lo conosce è stato uno degli FPS più ed è ancora uno degli FPS più importanti uno dei primi mi sembra quattro giochi più giocati di sempre su Steam è stata Steam non esisteva ancora era una mod di Half-Life era una modifica di Half-Life non so se ve lo ricordate Half-Life pietra miliare c'ho Lorna che sta c'è il la faccia di Lorna Lorna tampona e quindi vabbè adesso usciamo dal tecnico comunque da lì in poi non mi sono più fermato gaming competitivo ho fatto un sacco di e-sport quando l'e-sport non era l'e-sport di oggi mi ricordo questa 2011 ultimo mio torneo dal vivo il primo dal vivo però fira di Novegro a Milano da Pescara prendo il mio computer salgo sul treno e vado a Novegro a incontrare i miei compagni di clan avevo sto team non ci eravamo mai incontrati ci siamo visti dal vivo mi hanno fatto fare le magliette in una copisteria orribili e abbiamo fatto questa l'e-sport era fira di Novegro un capannone di una fiera i tavoli della porchetta i pc su sti tavoli e un tizio che girava col block notice per vedere chi aveva vinto oggi io presento eventi e-sport enormi dalla Games Week altra se ripenso che dieci anni fa noi eravamo alla fiera della porchetta col block notice capito? quindi questa è la parte che passino avanti la cosa figa è che sono riuscito grazie al cielo ad unire altre mie passioni cioè il gaming al mondo del presentare in generale del host e sono sei anni che presento Games Week ho presentato vari eventi di e-sport di League of Legends e di altri giochi ultimamente anche di Gran Turismo insomma presento gli eventi e-sports mi conoscono per quello e presento anche il premio l'Italian e-sports awards che è tipo l'Oscar dell'e-sport in Italia pensando c'è stata la seconda edizione per dire che adesso non voglio fare il figo è solo per dire che sono riuscito il mio lavoro ad entrare nel mondo di un'altra mia passione che è il gaming in questo modo sto cercando di raggiungere l'utopia di non lavorare mai un giorno nella vita ah infatti detto l'arco detto che dice vivi la tua vita un quarto di ulcera alla volta per essere anche questa quella pure quella pure e l'altro lato nerd amo molto il cinema mi piace un sacco guardo un sacco di serie tv ma penso che ormai le guardino tutte solo che ho un problema e sto per farmi odiare da voi dalla chat siete pronti? sentiamo vado oddio io c'ho paura però odio Game of Thrones ah ragazzi no no va bene va bene attenzione attenzione ma odi Game of Thrones o odi Game of Thrones dalla spinta che buona un po' credo che Game of Thrones sia bugito aspetta non c'è un applauso non c'è abbastanza questa è bellissima questa è un'altra quote questa la mettiamo la mettiamo aspetta ma tu hai visto Game of Thrones mi è bastato vederla prima per capire che io non c'ho più applausi per quest'uomo io ne devo fare un altro c'è una bassa bellissima sei pronta per la seconda bomba? no ecco adesso ho paura ho dei delle nausee molto forti a pensare che la casa di carta sia una bella serie qua qua mi trovi d'accordo dalla terza stagione in poi sei soltanto innamorato a livello affettivo qualcosa che hai dovuto vedere dall'inizio che hai dovuto vedere fino alla fine perché l'hai iniziata lui è innamorato di io sono innamorato di Berlino e di Alessandro IV quindi non so eh vabbè allora vedi che c'era mi spiace Lorna lo so non odiarmi ho anche dei pregi no scusa non c'è due senza tre c'è qualcos'altro che dovremmo sapere guarda io sono Star Wars no aspetta aspetta grande grande adesso la dice adesso la dice guarda ti faccio ti faccio allora se dici quello che penso stai per dire ti faccio una proposta di matrimonio in diretta aspetta man non so dimmelo tu magari è quello che sto pensando vai che sta io di allora magari che Star Wars a livello iconico non si discute però però io non riesco a farmela però il franchising è Disney che si diverte allora ho un problema però ho detto tante cose molto forti ma amo follemente Cobra Kai ad esempio bene capito cioè nel senso poi ti fottono dal punto di vista proprio del cuore cioè nel senso ti prendono lì e poi te le guardi però nel senso quando dico che amo il cinema posso citarti da Kubrick non per fare il sapientone però adoro oppure che cavolo ne so Villeneuve secondo me è pazzesco e tipo Dune mi è piaciuto molto poi c'è chi dice che no che sì non me ne può fregare di meno penso sia molto bello e non amo tanto la fantascienza quindi Spider-Man ad esempio mi piace ma semplicemente perché sono un fan di quando ero piccolo l'ultimo fa cagare secondo me non si può guardare mi sto facendo dire tutta la chat la trilogia originale hai qualcosa di buono da dire mamma mia ragazzi la trilogia originale è molto bella ah e un'altra cosa che secondo me il Guardia della Galassia 1 è molto molto bello come film a prescindere dall'amore per i supereroi che io odio in generale per il secondo non tanto però il primo molto molto bello davvero bello anche la cultura anni 80 come è stata incastrata cioè mi piace un casino molto bello però Endgame tutte quelle robe là non ce la posso fare raga c'è mi spiace ma mamma mia raga cioè adesso 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 perché adesso perché Brian insomma non c'è un attimo libero se no io gli avevo già fatto senti questa casacca viene mafo streamer perché è perfetto è perfetto ha detto mi spiace Lorna è perfetto se noi cambiamo argomento parliamo di non lo so di criceti su una no scherzo non è vero no aspetta rispondi a questa domanda è pericolosa quando fa così è pericolosa ragazzi l'autobus dei gusti quindi anime e manga no cos'hai da dire su anime e manga anime e manga ok sono stato un grande fan di Dragon Ball ora vi faccio se volete faccio una cosa vi faccio vedere quanto sono fan di Dragon Ball siete pronti? si allora questa è la mia molle skin dove ho fatto due debox ora non lo vedrete ma volete far partire un cronometro vi disegno faccio uno faccio uno speed draw bello bello io non sono un disegnatore ma ho sempre disegnato a scuola sui libri di storia quindi andrea fai partire andrea fai partire il cronometro al via parte il cronometro ok tre due uno via vado ok siete pronti? si secondo voi chi è? è un cartone animato che andava tantissimo su mediaset che hanno visto tutti e ultimamente la storia del box è stato ospite uno Doraemon cosa? Doraemon no ho pensato a Baldi Dragon Ball Dragon Ball esatto Dragon Ball era la mia più grande passione l'ho disegnato per un sacco di tempo mi piaceva da morire ero un super fan uno di quelli che quando è uscito il primo gioco per Playstation Final Bout l'ha comprato in francese perché non era ancora uscito cioè in europeo ordinandolo al negozio di videogiochi a casa non c'era Amazon all'epoca così finito eh mamma mia non me lo ricordo spero che siamo per vedere Vegeta o Bulma no vabbè facciamo faccio Goku faccio Goku ma c'è che cazzo ma scusa stop 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 quanto? quant'è? 56 secondi sotto il minuto sì figli siamo in 56 secondi bellissimo ah ho capito sono retaggi del passato retaggi del passato hai capito in 56 secondi cioè voi pensate voi pensate io che disegno a Gartic Phone cosa faccio in due minuti lui in 56 secondi ha fatto no ma io non so allora io non so più disegnare però ho disegnato tanto quando ero piccolo pensavo che il mio posto fosse a Tokyo a fare il fumettista ho avuto la passione di manga per un po' ho amato Slam Dunk ho amato Dragon Ball One Piece non tanto perché secondo me è una specie di sopopera è diventato a un certo punto ragazzi va bene così va bene ma sapete qual è la figata di sto show che io posso dire quello che voglio cioè è una figata sta cosa cioè posso essere anche non politica di correct ma la cosa bella è che se lo dico io mi blastano se lo dici tu tutti dicono che va bene quindi è bellissimo ma no non è vero i gusti sono gusti adesso io io dico le mie però ecco i manga sì ad un certo punto mi sono stoppato vi dirò qual è il mio anime preferito però che credo di amare solo io probabilmente conosco solo io a questo punto adesso è Mega Mananty Warrior avete mai visto Monster non Monster Hunter attenzione vediamo un po' vediamo un po' googlatelo googlatelo man ma Monster era quello della casa no parlava di un dottore giapponese che viveva in Germania trova lavoro con Monster ma Monster Monster di Monster no Urasawa mi pare di sì no non l'ho mai visto comunque no ok l'ho trovata ragazzi uno degli anime più belli sono tipo 70 passapuntate una cosa del genere mi pare di ricordare ed è un thrillerone pazzesco pazzesco potrebbe essere una serie televisiva di Netflix di Amazon quello che cavolo volete se vi capita come anime vi prego guardate lo parla di questo dottore giapponese di questo bambino vabbè è folle c'è chi scrive ma è vecchissimo lo conosco io non lo conoscevo è vecchissimo devo dire mai sentito perché Amazon farà un riadattamento su Amazon Prime no no non lo so però se vi capita vi giuro recuperatelo perché è una piccola perla che io non so come ci sono arrivato a sta perla non ne ho idea perché non me lo ricordo ma mi ricordo ancora il flash di quando guardavo sto cartone e lo scaricavamo non so da dove perché vabbè erano altri tempi e se vi capita io credo sia uno degli anime magari qualcuno l'ha visto in chat non lo so c'è Jackie che è la nostra madre qua vabbè Tantaratta sta dicendo One Piece mi piace quello che ha scritto fanpage il man è il Picasso dei nostri tempi sei una persona molto intelligente non a caso sei la mia fanpage quindi intelligent beh certo se prendi gente ti fai complimenti dici che è intelligente certo che devo dire cioè è più palese è oggettivo cioè un complimento oggettivo oggettivo quindi la mia parte nerd diciamo videogiochi cinema se si può dire anime non sono uno di quei nerd super precisi che sa tutto di quella cosa non so se avete presente qual è quella tipologia ma non è vero quello che sa tutto io non so niente però mi piace e mi piace mi sono sempre definito un po' nerd a parte che oggi dire che sei nerd è un po' cool non è più una roba sì una volta era è più una cosa che ti insultava però io non mi sono mai vergognato di dire ecco negli anni in cui giocare ai videogiochi era da sfigato c'è la classica frase da macio maschio alfa finto perché poi è finto io sinceramente non ho mai avuto problemi dal punto di vista delle relazioni quindi ho sempre fatto cioè comunque robe super cool se ci pensate però ho sempre detto con fiere veramente fiero di essere un amante dei videogiochi degli anime di tutte queste cose qua non tutte ovviamente perché ad esempio ci sono tipo giochi da tavolo niente giochi di ruolo niente non si può fare tutto diciamo però videogiochi ancora oggi bravo ma anche ora oggi ha 35 anni suonati ragazzi io prima di venire qua prima di cena ho giocato un'ora rust cioè per farvi capire disperato dopo aver una giornata di lavoro tra una cosa e un'altra quindi no no mi serve giocare è chiaro è chiaro ma visto che ti piace il cinema e il videogioco cioè il mondo dei videogiochi e il mondo del cinema devo farti una domanda che se vuoi potremmo anche estendere a un film uscito da qualche giorno che cosa ne pensi di quando le distribuzioni decidono di produrre film tratti o ispirati ai videogiocchi ahia ora è uscito Uncharted lo andrò a vedere sabato è una serie che mi piace molto ma io ho un problema con quel film poi ti dico in generale ho un guilty pleasure tra il cinema trash ok ah e ora visto per dire un film di Nicolas Cage già questo ti fa capire ok c'è un film anzi sono due e spero che esca il terzo perché Disney l'ha mezzo detto che è il mistero dei templari ora è un film orribile ma io Nicolas Cage con la stessa espressione per due ore e mezzo di film che mi prova a rubare la costituzione americana per trovare il tesoro ragazzi cioè io quindi Uncharted sarà un po' quella roba lì no c'è un Sottomolland che l'avventura poi i pirati tutte ste cose no dei tesori ecco questo è il mio guilty pleasure posso dire che non ecco vedi di difetti ce ne sono riguardo chi rifai i film tratti da videogiochi ma anche anime mi ricordo una versione orribile di Dragon Ball live action mamma mia sono andato al cinema ragazzi è stato veramente imbarazzante sono rimasto di un male ma penso tutto il mondo ma sì ma sì Andrea ne abbiamo parlato in live tipo tra i giorni ma era diretto da tipo John Woo era diretto da un vabbè scusami Andrea dicevi no dicevo non so se ti ricordi la serie Buffy no l'ammazza vampiri certo c'era Spike che era più o meno il cattivo un po' treccio pure vabbè Spike che faceva piccolo sì 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 no ma me lo ricordo io non l'avrei mai riconosciuto vabbè ma a parte la scelta comunque di cosa ne penso io penso che se un film è fatto bene è tratto o meno da un videogioco sti cavoli per fare un bene un film ci sono delle regole no la scrittura la fotografia interpretazione ci sono tutti questi no tu puoi anche io prendo faccio un film da un videogioco a parte ci sono videogiochi che sono paragonabili dei film se non di più mi viene da dire allora c'è un gioco che come cavolo si chiama Death Stranding non so se lo conoscete sì l'ultimo di Kojima Kojima io penso sia un'opera d'arte anche se mi rompo le palle a giocarlo e non lo finirò mai ma soltanto per come è stato concepito no e siamo veramente al limite con la cinematografia ma che ne so The Last of Us ci sono dei giochi che sono paragonabili a film se non più belli con la differenza che abbiamo un'interazione diretta io credo che le regole siano sempre quelle tu puoi fare un'opera qualunque ma un'opera d'arte ha delle regole no anche se sembra paradossale perché le regole dovrebbero essere infrante però ci sono dei canoni no per cioè non è che tutto quello che fai è perché l'ho fatto io va bene cioè l'importante è che ci siano degli standard quindi io posso fare il gioco di il film tratto da My Little Pony ok può essere un capolavoro che cavolo ne so certo quindi non sono contro assolutamente sono contro la guerra in Ucraina quello sì quello sì ci associamo ci associamo però magari non ne parliamo dai che sennò veramente no teniamo diamo un po' di felicità e di leggerezza in questo periodo quindi non parleremo nemmeno di Thor Ragnarok esatto soprattutto no guardi vabbè non saprei cosa dire perché non l'ho proprio non ti sei perso niente non te lo guardare quindi comunque niente il mio nerdismo diciamo che è più o meno questo dai si può dire più o meno più o meno questo una cosa invece ho notato è che negli ultimi anni sono dedicati veramente quasi esclusivamente al lavoro cioè nel senso che ho questo problema che facendo allora una volta un mio direttore che purtroppo non ricordo positivamente per le ultime vicende diciamo però il mio direttore radiofonico che non fa più il direttore radio mi disse quando era ancora lucido probabilmente e mi disse che c'è un problema quando quando fai quando lavori con la tua passione ti prendi tutto il bello ma ti prendi tutto il brutto e il brutto te lo porti sempre con te non stacchi mai e quindi io trovo godimento nel fare il lavoro che faccio e quindi tutto quello che faccio fondamentalmente però mi porto anche tutte le merde di quello che e la mia vita è totalmente incastrata cioè non è come quando il mio ragazzo lavora in ufficio inizia la mattina alle nove e mezza finisce alle diciannove che non ne so diciannove e trenta quello che è quando finisce è come avere due vite c'è una serie bellissima Scissione mi pare si chiama appena uscita su Apple TV molto Scissione mi pare vabbè è appena uscita credo sia diretta da Ben Stiller o qualcosa del genere ed è praticamente loro la sinossi è che praticamente tramite questa scissione tutti i pensieri cioè il lavoro è una vita e fuori dal lavoro è un'altra vita è come se tu vivessi due vite diverse cioè quello che vive il lavoro vive solo il lavoro e quello che il tuo io che vive solo il lavoro ed è un trip ho visto solo la prima puntata mi do un altro un altro quindi ecco non posso mix è costante no? soprattutto quando le cose dipendono solo e unicamente da te quando sei imprenditore di te stesso è un incubo diciamo però è anche ecco purtroppo mi sono reso conto che lavorando così tanto magari godendo nel lavorare non ho neanche bisogno di dire di riuscire troppo a far casino no? la vita quella mondana del tipo ah cioè penso che magari andrò a fare intrattenimento al Gran Premio di Imola forse sto aspettando la conferma di Formula 1 ho fatto Monza a settembre farò forse Imola ad aprile e cazzo cioè vado al Gran Premio capisci? fai il mazzo perché ti fai il mazzo però poi io trovo godimento purtroppo nel lavorare e nel giocare ai videogiochi è un casino raga cioè ve lo dico è un è un merito casino vabbè è comunque è comunque bello nel senso anzi anche io nel senso essendo qua tutte le serie in diretta non sento il bisogno di oddio usciamo mangiamo con gli amici perché è come se fossi sempre qua in compagnia con persone che poi passi delle serate molto piacevole cioè è vero stiamo in un certo senso no? portando un format c'è tanto studio dietro però poi è molto piacevole di fare qualcosa che ti toglie parzialmente il bisogno no? di dire ok usciamo esatto trovi godimento in quello che stai già facendo quindi capisco molto bene il discorso che porti non fa una piega secondo me meglio non pensare al dopo però che se no il dopo è un casino il dopo è un vero casino quando si sceglie di fare una vita così è molto complesso perché non hai nessun tipo di prospettiva cioè non sai cosa succederà costruisci giorno per giorno no? e quindi anche nelle relazioni questa cosa può essere difficile cioè anche una persona che ti sta accanto sapendo che tu stai vivendo giorno per giorno no? è più complesso magari quando crei una relazione anche sentimentale amorosa in generale si cerca di costruire qualcosa no? di pensare al futuro però questo futuro tante volte se costruisci la tua vita giorno per giorno è complesso da immaginare è vero però però dall'altro lato cioè nel senso io trovo tantissime persone che hanno scelto la strada della stabilità ma molto spesso corrisponde anche alla strada dell'infelicità perché viviamo in una società che ti dice ok il lavoro la fisso la stabilità cioè troppi troppe passioni troppi interessi troppe persone che magari ce l'avrebbero fatta rinunciano in via di una stabilità che sì per carità ha i suoi vantaggi però quando io devo scegliere tra il vivere con una prospettiva però infelice tutta la vita e non avere stabilità attuale ma inseguire un qualcosa che mi piace che mi faccia star bene per me è la seconda via basta fare una domanda è molto semplice ai rimpianti ai rimorsi rimpianti io non ne ho cioè se dovessi quando mi chiedono cambieresti qualcosa della tua vita io ti rispondo assolutamente no e mi terrei tutte le cose negative adesso non voglio non voglio far troppo il filosofico però è vero cioè se mi fai questa domanda in maniera molto diretta dico io non cambierei niente nulla cioè perché alla fine sono comunque fiero del percorso fatto e so che non è neanche l'inizio capito cioè i gradini sono veramente ripidi io io vi ringrazio quando pensate che io sia un'eccellenza nel mio campo ma voi ci credete che ogni giorno penso di essere ancora al punto zero no? cioè che forse è quella un po' la forza del voler fare del voler creare e quindi ce n'è di lavoro ancora da fare secondo me non so quando finirà questo lo spero mai però questo è proprio il segreto per l'eccellenza cioè nel senso Cristiano Ronaldo che è a talento ma non è così perché se sveglia dice ok mi sento arrivato no? lui si allena tutti i giorni più degli altri fa veramente i sacrifici per essere ancora al top all'età che ha quindi insomma secondo me questo che hai detto è anche un po' no? una delle tante chiavi per rimanere sempre sul pezzo e sull'eccellenza in questo caso quindi ci proviamo allora no? leggevo Willow che ha scritto scusate vado a sorseggiare dell'Oxanax no? no poi sai se ci fossero anche non so magari qualcuno nella chat che è qui da un po' che ha voglia di fare qualche domanda io non sono non sono Fedez non ho così tanti follower no ci sono ci sono le domande infatti adesso le andiamo a porre raga come sapete quelle evidenziate andrò a leggere qualcuna tra le evidenziate le andremo a recuperare qui e lì come scorro le vado a leggere ovviamente poi se avete altre domande voi continuate a farle continuate a farle o ovviamente ne pescheremo qualcuna non tutte potete stalkerare Brian ci dissociamo però potete provare potete provare a farle ne è arrivata una adesso ma mio occhio è capitato subito su quella non so se l'hai vista di cosa preferisci tra Twitch e il tuo lavoro di speaker che domanda guarda questa è un'altra domanda difficile non dico a livello della prima che mi avete fatto che è una domanda pazzesca la prima mi sa che me la rigiocherò perché è veramente assurda quindi vi ruberò ecco dicono di copiare che si è sbagliato copiare rubare è positivo invece bisogna sempre rubare da chi ne fa meglio guarda per noi noi non siamo quelli oddio anzi siamo molto felici però vi faccia piacere sapere che anche se ho tanti anni di esperienza come intervistatore intrattenitore ho intervistato veramente un sacco di gente mi è capitato di intervistare anche Mogol di farlo emozionare cioè cosa incredibile hanno prima sclerato al conduttore di quella manifestazione l'anno dopo mi hanno mandato sul palco dicendo guarda che Mogol ti mangia l'ho fatto quasi piangere raga c'ho il video vabbè mai pubblicato anche questo allora aspetta quindi cosa preferisci tra Twitch e il tuo lavoro da speaker porca puttana allora Twitch è un po' generico perché io non sono uno streamer anche se ho iniziato in cameretta io all'inizio 2018 ho fatto sei mesi di Twitch streaming in cameretta perché e lì mi sono innamorato di Twitch e lì ho capito ho avuto l'idea per The Box io ho sempre detto che se il live show non me lo fanno fare me lo devo fare da solo quello è stato un po' e quindi è andata è andata un po' così la cosa poi in quel periodo vabbè niente periodo un po' pazzesco comunque allora quindi magari facciamo così te la cambio un attimo cosa facisci tra il tuo lavoro e l'altro lavoro che perché è diventato un lavoro quello no del mini imprenditore del start-upper chiamiamolo così che è quello che ho fatto per lo streaming cioè produrre show allora la radio con la radio un rapporto molto intimo la radio è una cosa ragazzi la radio è una delle cose più belle che un intrattenitore possa provare ti spogliano di tutto ti rimane solo la voce non è come il doppiaggio il doppiaggio è una cosa molto bella è molto complicata ma c'è ancora l'immagine no perché il doppiatore comunque c'è un'immagine no il podcaster è un'altra roba la radio in diretta sul network nazionale potenzialmente ti possono ascoltare milioni di persone quando apri il microfono e hai mille responsabilità perché se io bestegno in diretta io non lavorerò mai più in tutta la mia vita sembra una cazzata però o dici qualcosa di non di impopolare perché puoi anche dire le cose impopolare però bisogna sempre oggi non si può più dire niente ragazzi eh cioè sul sesso le differenze di genere l'inclusività io credo che alla base ci sia il rispetto cioè a me non me ne frega un cazzo se sei un uomo una femmina non mi interessa se tu mi rispetti come persona io rispetto te come persona tra persone non mi manchi di rispetto nel senso che non mi offendi non mi non mi bruci casa non mi derubi siamo persone ci rispettiamo a prescindere dal genere partendo da questo presupposto e oggi non si può più dire nulla ti etichettano per una frase decontestualizzata cioè cose assurde quindi hai delle responsabilità ma hai un rapporto intimo con gli ascoltatori che non c'è una chat diretta come su Twitch come in questo caso abbiamo la fortuna di poter abbiamo i messaggi però il messaggio è meno diretto scrivi whatsapp inviali alla radio manda il vocale non è detto che ti leggo non c'è uno schermo che ti fa vedere quindi porca miseria la radio è pazzesca a livello proprio professionale a me ha dato tantissimo mi ha fatto crescere professionalmente è come Goku che fa l'allenamento nella stanza dello spirito del tempo è veramente assurda però quello che io chiaramente radio sono limitato da una linea editoriale che la radio da fai quel programma in quel tipo di fascia di intrattenimento se dovessi scegliere cosa fare il radio sceglierei un altro orario magari sceglierei un altro tipo di programma ma non lo posso fare non sono io l'editore no? ci sono delle regole importanti su Twitch quello che ho fatto io su Twitch mi ha permesso di avere una tela bianca e di creare qualcosa di unico e quello io la seconda stagione dei box ho letto i titoli di coda c'erano 72 nomi e come cazzarola ho fatto non lo so giuro non lo so raga se ci ripenso dico non è possibile nomi si sono creati i rapporti ecco quello che mi ha dato questo tipo di esperienza è sicuramente impagabile ma sono due cose troppo diverse per essere equiparate no? quindi cosa mi piace di più? tutto quello che faccio non nego come ho detto che in radio vorrei fare qualcos'altro cioè nel senso ho un'altra il programma che faccio va benissimo con Valeria la mia collega che la saluto c'è un bel programma brillante di intrattenimento è molto molto bello da ascoltare molto se vi fa piacere ci ascoltate sabato e domenica dalle 16 alle 18 su Radio 105 anche se poi abbiamo condotto tutte le sere fino a dicembre eravamo tutte le sere in onda dalle 22 e mezzanotte vabbè siamo molto bravi abbiamo fatto un sacco siamo molto amici questa è una figata battibecchiamo come fate anche voi no? qui tra amici ci si scherza no? sì ma noi non siamo amici loro sono due stronzi io volevo coprire questo loro sono due stronzi punto cioè passami il termine cioè loro intendi tu e Andrea no intendo Andrea e Lorna ovviamente disturbo della personalità però no capiamo bene comunque si crea questo tipo di rapporto ed è un'altra ed è un'altra cosa quindi non saprei rispondere te l'ho voluto un po' però spiegare chiaro ti dico no non so cosa rispondere andiamo alla prossima senti io c'ho prima di passare poi alle altre domande della chat c'ho una curiosità cioè dato ti chiederei qual è stato nei due ambiti no? quindi Twitch e Radio 105 il momento che ricordi con più piacere e la difficoltà più grande che hai avuto cioè proprio se dovessi catalogarla in pillole no? quando ti dico il momento più bello il momento più brutto di entrambe le cose c'hai un un chiaro ricordo di qualcosa o no? per The Box stavo preparando la seconda stagione sono state sorte un paio di cose non prima della pandemia ancora quindi era 2019 non sono riuscito a trovare i finanziamenti non so ho avuto un po' di scelte sbagliate eccetera prima di dichiarare il fallimento di questa cosa e di poter dire ok non lascio perdere tanto è andata male è scoppiata la pandemia quindi in maniera naturale si è azzerato tutto però mi ricordo che ho passato dei momenti molto difficili perché comunque ero un po' deluso no? da ero uscito nell'intento invece poi la pandemia mi ha dato un boost mi ha fatto e cavolo lì dopo abbiamo addirittura triplicato gli investimenti quindi brutto ma bello come ti posso dire certo vedere anche il bello nella pandemia scusami ti ho parlato sopra tranquillo dicevo anche il bello nella pandemia quante volte abbiamo detto anche qui la pandemia si è cosa bruttissima però ha dato ci ha messo nella condizione in una condizione mai vista nel senso siamo potuti stare a casa riflettere su noi stessi e sono nate cose grazie alla pandemia assolutamente assolutamente per quanto riguarda la radio invece la radio allora sono due momenti vi dico quello più recente allora io ho lavorato dal 2015 come vi ho detto da Expo in radio sono entrato ho fatto sei mesi dopo quei sei mesi la radio non poteva assumerci non ci poteva prendere perché c'era il cambio di gestione Mediaset stava comprando non c'erano posti io come ve la faccio spiegare praticamente allora 2015 inizio Expo a maggio finisce a novembre inizio novembre ci tengono un mese in onda c'è stata una possibilità di stare un altro mese in radio dopodiché ci dicono ragazzi non vi possiamo rinnovare ciao mi ci dispiace vedremo più avanti io vivevo a Milano non avevo più casa dovevo tornare a Pescara ho detto vabbè riprendo a insegnare le palestre come faccio a campare cioè devo riprendere il mio lavoro tanto ho avuto uno stop di sei mesi torno riprendo le mie palestre in cui insegnavo i miei allievi eccetera o poco una settimana dopo il non rinnovo mi rompo il legamento del pollice destro cioè per la serie Brian non puoi tornare a fare quello che facevi prima devi rimanere lì quindi nei successivi sei mesi mi sono dovuto inventare di tutto per campare poi avevo là mi sono messo con la mia ex e abbiamo insomma mi sono appoggiato da lei mi sono inventato ho fatto il grafico per un'azienda boh a caso seguivo i social per il panificio di alcuni amici che avevo conosciuto cioè cose folli per cercare di campare finché poi ad un certo punto insistendo un po' capendo un po' come girava la cosa mi hanno detto ok ragazzi vi prendiamo quindi però cioè sono passati sette mesi da cioè sette mesi di questo è un momento molto difficile però molto più difficile di questo momento quindi dal da giugno 2016 fino alla fine del 2018 io ho lavorato in radio costantemente ad un certo punto a me Valeria la mia collega il nostro direttore che probabilmente ha cambiato idea a un certo punto verso di noi per non so quali dinamiche ci fa ok non vi rinnoviamo il contatto ciao a un certo punto ci sono state delle cose strane negli ultimi mesi vabbè non vi sto a raccontare però quindi sono stato da gennaio fino a settembre senza la radio mandano via il direttore e il giorno dopo ci chiamano ragazzi tornate quella è stata una grande soddisfazione perché lì avevo capito che c'era qualcosa che non andava capito con quella versione io non ho niente contro di lui quindi però ve la racconto in maniera molto com'è stata magari uno può alludere a quello che vuole però guarda caso il giorno dopo pronto ragazzi tornate e da lì insomma è storia comunque c'è stata la pandemia abbiamo continuato a lavorare ininterrottamente ancora lavoro in radio quindi se devo pensare a due momenti più difficili dove anche qui per la seconda volta mi sono dovuto un po' inventare ma ero già inserito a Milano facevo già eventi cose quindi sono riuscito in qualche modo a star su in quei mesi devo ammettere che sono stati questi i momenti più complicati ok grazie Brian grazie a voi mi sto casando un po' mi sto divertendo un po' dai dai ci fa piacere ci fa piacere dai che sono curioso delle domande allora andiamo andiamo pesco a caso Tommy buonasera Tim allora lui ti fa tre domande in uno piuttosto nerd però te le vado a porre lo stesso la prima è sei più Tim Capitano America o Tim Iron Man perché ci sono diatribe su questo sì sul canale ma lo hai detto che non gli piacciono sì lo so però insomma pensando mi stanno sulle palle tutti e due ok quindi non ce n'hai uno che ti allora poniamole in modo diverso non ce n'è uno che ti sta un po' meno sulle palle esatto Tommy Stark ok quindi sei più Tim Iron Man bene 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 vabbè ma proprio mi ha tirato per l'orecchio proprio forse perché è vicino a Tom Holland poi va bene per Robert Downey Jr dai e per Robert dai no a me Capitano America proprio ragazzi cioè incarna tutto ciò che è il capitalismo no non è vero aspetta questo è falso è una cazzata quella che ti dico Lorna Triggered è vero ma paradossalmente lo incarna meno di Capitano America che ha la bandiera dell'America sopra lo scudo capisci Tony Stark è proprio il sistema Tony Stark sì è vero è il capitalista per eccellenza ma se ci pensi però utilizza i suoi soldi per fare del bene quell'altro invece incarna il patriottismo americano tutti i valori del cavolo del sogno americano ma non è vero no è falso e potrei che poi scusate è sbaglio o è Tony Stark che poi sta dalla parte del governo potrei potrei anche dire che usa i suoi soldi per fare del bene ma le Stark Industries con tutti i missili che hanno dato alla non ho una conoscenza approfondita dei personaggi e mi avete costretto voi alla risposta però io vorrei pensare una lancia in favore di Brian perché ovviamente ha risposto quello che ho risposto anch'io quindi lo ripendo ma non lo vogliamo sentire Andrea cioè va bene la risposta lo dirò lo stesso il ragionamento che ha fatto sulla questione simbolo è in realtà è in realtà l'argomento principale di Falcon and the Winter Soldier quindi mi sto scendo il sangue dal naso a me adesso allora domanda cinematografica invece riguardo Jumanji secondo me la risposta è facile però la pongo Jumanji di Robin Williams o quello di The Rock vabbè il primo ma se rispondevi diversamente dovevo proprio prenderti ragazzi vi dico la verità il secondo per fiducia non lo sono andato neanche a vedere giusto perché devo perdere due ore e mezzo della mia vita per vedere quella roba lì ma posso dire un rimpianto non ho visto Ghostbusters Legacy però e lo devo vedere no no quello vale la pena pensate che un mio amico Alessandro Ungaro è il supervisor degli effetti speciali di Ghostbusters Legacy di Los Angeles è veramente un figo e molto fiero di quel film che ha fatto adesso invece sta uscendo un altro con Ryan Gosling che non mi ricordo come si chiama che ha sempre seguito lui mi piace sentire c'è un ragazzo veramente in gamba che lavora a Los Angeles è il boss degli effetti speciali capito degli sti film ma è pazzesco sì 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 è bellissimo è bellissimo su Jumanji hai fatto bene su Jumanji hai fatto bene su Jumanji sì ma Legacy non è che ne hanno fatti solo due cioè non è che dici quello Robbie Williams è il primo con The Rock poi ne hanno fatti tre con The Rock ah meno male che non erano firmati a due l'ho proprio rimosso cioè proprio non me ne cioè proprio non mi ispirava minimamente cioè proprio quando si persevera nell'errore capito beh ma in realtà penso che abbia il suo seguito di tipo coatti di persone che non meritano di seguire Jumanji cioè nel senso non è giusto andiamo avanti andiamo avanti domanda di Roberto buonasera a tutti un grande saluto al nostro ospite agli streamer ciao un saluto anche a te vorrei chiedere a Brian qual è il suo genere musicale e il suo cantante o band preferiti beh è vero non abbiamo parlato di musica sono stato un grandissimo fan proprio sfegatato ma fisceralmente di Michael Jackson ma proprio io ho iniziato a ballare grazie all'energia di Michael Jackson nel senso che anche se non ballava breakdance effettivamente io poi la breakdance però Michael mi ha ispirato tanto ho visto tutti i suoi show sapevo le coreografie a memoria cioè proprio malato e il suo ritmo non solo quello musicale ma tutto quello che faceva anche a livello di spettacolo mi ha influenzato tanto cioè non c'era un momento in cui ti annoiavi e io ho quest'ansia dell'annoia adesso questa è un'intervista probabilmente l'avrò anche annoiato però in generale nei miei show ci deve essere un mega ritmo ho l'ansia del ritmo quindi Michael Jackson è stato poi in realtà la mia musica è il funk io ascolto un sacco di funk da James Brown tutta quella anche gli anni 70 diciamo ho ballato breakdance tanto anche con il funk mi piace un sacco anche il blues e il soul al momento al momento devo dire un artista contemporaneo che mi piace ascoltare insomma mi dà energia ho visto anche un suo concerto è Bruno Mars Bruno Mars è uno di questi contemporanei diciamo pop ok che si possono ascoltare nelle radio perché ha tante influenze funk poi si vede che ha amato la follia da Prince a Michael Jackson a James Brown a tutte queste influenze quindi sarà anche per quello no diciamo non ha cambiato il mondo però un suo spettacolo merita ve lo assicuro quindi il funk penso sia la mia musica cioè proprio io sono funk nel senso anche quando faccio le mie produzioni sono funk cioè se dovesse prendere un genere musicale e metterlo quando parlo quando faccio è il funk cioè il funk perché ho ballato tanti anni con quella roba lì ci sono proprio cresciuto quindi se dovessimo trovare una canzone per come sottofondo musicale diciamo della tua vita sarebbe una canzone funk sì assolutamente allora facciamo così ti prendo una che più o meno unisce i due generi ma prende Michael Jackson che più o meno ha questa sonorità qui che è Don't Stop Till You Get Enough che non è proprio funky è presente qual è Don't Stop Till You Get Enough bellissima dovrei recuperare questa canzone davvero non la conosce André l'urna l'urna non la conosce ma te viene in un altro mondo alla fine della diretta farò una storia buia con solo quella canzone tangando lei però tangando lei posso dirti che invece sono sicuro dici che l'ho sentita ma non non la ricordo ma secondo voi vabbè niente mi è arrivato un messaggio strano vabbè no adesso sono curioso secondo voi sono il tipico africano io non ci dormo stanotte da trasferire fuori da voi che cosa? il messaggio è arrivato tipo ciao sono ti abbiamo lasciato in eredità un milione di euro in realtà mi è arrivato un messaggio tipo il sistema ha sospeso il suo conto per mancata procedura di sicurezza cedi ma che cazzarola dici? clicca qui per sbloccare e cliccilla la fine ma infatti non cliccherò andrò bellamente sul mio servizio online andrò a controllare tra un po' che sia tutto a posto quindi niente la canzone usiamo Don't Stop Till You Get Enough dai bellissima canzone e invece che ne pensi del rockabilly anni 50 tutto il lato Elvis Jerry Lewis ti piace io lo adoro per me è il top è molto figo mi piace anche il rock and roll acrobatico secondo me è molto figo da vedere super energico bello a coppia molto molto figo quindi rockabilly mi piace molto bene bene sono contento perché è veramente il mio genere cioè dovessi scegliere un genere io andrei su quello perché mi piace da morire non stai sbagliando è molto molto figo allora questa l'abbiamo abbiamo già risposto a primo approccio con il mondo della radio anche con quello dello streaming ce l'ha detto nel corso della nostra chiacchierata fanpage vorrei chiedere a Brian una three list delle tue serie preferite quindi tre serie tra le tue preferite in assoluto dio mio sono domande molto complesse ah vi dico una che non è tra le mie serie preferite che non so perché io non ho mai seguito troppo lo sport non me ne è mai fregato niente ma sto aspettando e sta per uscire la nuova stagione di formula 1 drive to survive ma come cazzo cioè i ragazzi non ho mai seguito drive to survive ma di che parla ho visto quella serie su tre stagioni ho iniziato a seguire i gran premi a caso però non mettiamola tra le prime tre perché mi sembra una grande minchiata allora ah dio è difficilissimo oddio mamma mia ti direi cose a caso allora una di guilty pleasure così è cobra kai mettiamola in mezzo dai a caso non può essere la mia preferita però mettiamola mi è piaciuta molto goliath con billy bob thornton sua prime video cioè sono tre o quattro stagioni quattro goliath mi è piaciuta moltissimo lui fa l'avvocato alcolizzato è molto figa non so se l'avete vista mai vista mai vista sto ah ho capito è l'attore quello di babbo bastardo è billy bob thornton è quello che ha fatto fargo anche la serie di fargo non è più billy bob thornton è quello di babbo bastardo adesso per me è quello di fargo perché mi è piaciuto un casino non so ragazzi è una domanda troppo complessa perché ne ho viste talmente tante dovrei proprio farci ragionarci te ne butto dentro un'altra per cambiare una delle mie preferite che ho visto ultimamente è arcane che è la serie di league of legends non sono le mie preferite in assoluto vi ho buttato lì tre cose diverse una guilty pleasure una d'animazione e una diciamo una serie tv un po' più classica tra l'altro tu giochi a wild drift come fai a saperlo mi stalkeri ho visto le storie di terrenas allora io ho sempre odiato league of legends dovete sapere anche se ho presentato tantissimi finali esport di doll e conosco tutti quelli che giocano a doll ma da metà dicembre ho iniziato a giocare a wild drift che è league of legends per mobile io in MOBA non ci ho mai giocato sono sempre odiati raga non avete capito io in due mesi sono Diamond cioè terrenas è rimasto malissimo cioè sono forte in MOBA non lo so è una versione ti sei riscoperto in un altro ma sai perché è impegnativa del gioco dell'FPS perché nell'FPS la coordinazione ho mano occhio cioè a 35 anni non c'ho più la coordinazione non la coordinazione i riflessi di 10-15 anni fa quindi fai un po' più fatica a salire invece il MOBA è un po' più di testa come tipologia è strategico molto più strategico diciamo che oh mi piace sono big laner della madonna non lo sapevo che poi appunto League of Legends Wild Drift insomma hanno questa cosa del macro gaming che il micro gaming è quello che giochi uno più uno tu contro l'altro il macro gaming è quello che mi piace e quindi è fighissima questa cosa non me l'aspettavo quando l'ho vista l'altro giorno ho detto ah ok non mi aspettavo giocare a questo genere di giochi sicuramente glielo chiamavo l'ho scoperto due mesi fa ho sempre giocato al pc infatti io gioco mobile l'ho sempre un po' schifato però in realtà oh ragazzi il suo gioco qua è pazzesco hai capito hai capito gatto aspetta mi date un secondo mi porto il gatto nox si chiama ma sbaglio si vediamo le vecchie da gatto di Brian vediamo erano proprio le sue le sue orecchie da gatto eccolo il gattone è bello oddio che carino ma guardalo è fantastico ora gli faccio parole sul divano in questa live nessun gatto è stato maltrattato è stato maltrattato nova sul divano ci divertiamo così a volte zitto un po' che sono in live non hai parlato fino adesso in che senso quando la proposta è matrimoniale ah perché prima ho detto che poi faceva la proposta è matrimoniale Brian vabbè platonica platonica allora andiamo atti con le domande vado sparato su quelle vi iniziate dal lato professionale anche questa l'abbiamo già detta cioè nel senso potresti tornare indietro e rifaresti tutto uguale oppure cambieresti qualcosa ce l'ha detto prima quindi top 3 serie tv preferite un'altra volta ce l'abbiamo già fatta anche sitcom difficilissimo non ho sparato tre a caso film di Tim Burton preferito Batman molto specifico Batman però i primi quello primo Batman proprio quello col Joker con come si chiama Michael Kitton Michael Kitton che non può girare il collo si Michael Kitton che fa in giro così col torcicollo e anche quello con Catwoman e il pinguino quindi c'è tutti e due questi Batman qua questi sono quelli preferiti Tim Burton non amo tantissimo Tim Burton proprio non è uno dei miei preferiti però puoi dirgli che gli devi dire a parte Batman Forever ma non era Tim Burton no è Schumacher giusto Schumacher doveva fare un'altra cosa nella vita cioè correre con la Formula 1 perché invece si è messa a fare regista non va bene il film era veramente sceno ma Batman Forever è quello con Mr. Freeze o si con Cosco con il biondo lì faceva Bruce Wayne no con Mr. Freeze Batman Forever non è quello con l'enigmista è quello che c'è è quello con Robin con Carrie no si mi sa con Carrie si grande Loris Loddy che della voce poi c'è Batman e Robin con i Batcapezoli e la Batcapezoli grazie a Dio Christian Bale ha fatto un miracolo poi ha ripreso il franchise ah che sono un po' sono curioso di andarlo a vedere questo qua nuovo sono curioso perché è un po' dark un po' un po' serioso proprio pazzo perché è sulla linea di Joker Joker ecco Joker è stato un film molto molto bello non dirò niente di nuovo però Joker è stato veramente fico ok ok bello bello penso sia piaciuto un po' a tutti Joker anche perché è quel film che non te l'aspetti quindi sarete tutti felici di vedere Joker 2 nel senso che devono gestirla bene quello è scontato poi oh raga se fa schifo fa schifo nessuno voglia Joker 1 la bellezza di Joker 1 capisci esatto che carino sto leggendo fanpage quando Andrea aveva detto che aveva messo l'adesivo sul mio nome che ho scritto Andrea lui scrive possono mettere adesivi sul tuo nome ma sei nel cuore di tutta la comunione di grazie vabbè ma lo dice è appunto è un ragazzo molto intelligente è un ragazzo molto 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 intelligente allora Eita 84 arriva Seba lol ospite io giocavo a Counter Strike con i 56k sì all'inizio era un mod di Half-Life io registravo anche i replay con i comandi da riga di comando ma ultima online mai giocato a quei tempi sì l'ho giocato poco diciamo che con nessuno non aiutavano però è stato il mio primo MMO si poteva chiamare MMO più o meno dai alla fine era un RPG online un gioco di ruolo online sì effettivamente rientra quella categoria l'ho giocato ma non è stato uno dei miei preferiti però devo riconoscere la grandiosità di quel gioco però Indovinello per tutti e quattro quale film cult ha più di 100 kg che bordi no non mi fai indovinelli a quest'ora più di 100 kg no so sparo 50 sfumature di rosso ma che ne so non lo so Tommy dimmi già la risposta più di 100 kg 300 no io non ho idea di però 300 sicuramente non sono bravo con gli indovinelli potrebbe ebbè qualsiasi film di guerra ha più di 100 kg quindi salvate il soldato Ryan ne dico una cara Dunkirk Dunkirk ah perché ah vabbè mi sono beccato un bravissimo non so qual è il motivo da spanchi ospite Bioshock lo conosci? Bioshock si bellissimo è l'ultimo l'Infinite è stato il mio preferito ok vedi che cultura videoludica che avete io mi fermo ai giochi tipo Super Mario Metal Gear Final Fantasy io sono rimasto Metal Gear stupendo pensate che Metal Gear era PlayStation 1 ero talmente in hype per volerlo che me lo sono fatto regalare come regalo della cresima arrivata la penna l'orologio tutte quelle puttanate lì a me interessava solo tornare a casa e giocare a Metal Gear ah Final Fantasy preferito il 7 tutta la vita il remake secondo me è molto bello io preferisco l'8 invece pensa un po' perché era il primo in italiano perché mi piaceva i personaggi secondo me avevano più fascino che tipo se pensi a Safer Claude un po' di meno mi piaceva paradossalmente il protagonista non mi faceva impazzire però tutto il resto è vero Claude è quello del 7 però tipo Safer tutti gli altri tipo la strega Dea si chiamava Dea mi sembra la strega io ho un problema con la memoria però ti dico questo i Final Fantasy li ho finiti tutti tranne i due online che non ho giocato ok no io ho finito il 7 l'8 il 10 poi mi sono fermato 10 12 15 ah il 12 il 15 li ho recuperati in pandemia durante il lockdown ho finito i due vedi vedi l'ospite o gli ospiti che ti sono piaciuti di più nel tuo show ah mamma mia e qua come dici ho avuti troppi poi ne dici uno potresti far rimanere male qualcuno vabbè mica diciamo l'ospite ti ha fatto più schifo cioè dici quello e magari ti ha l'ospite che mi ha fatto più cagare ce l'ho in testa ma non ve lo dirò mai dici le iniziali le iniziali assolutamente no vi faccio vedere posso mostrarvi il mio schermo no? si c'è un tasto con share e puoi farci vedere quello che vuoi adesso vedete una schermata nera no no non vi preoccupate ok ecco vediamo noi ciao ciao mamma ho avuto un tv da brai ok lo vedete? si vediamo ok allora andiamo su video così vi faccio vedere qua ho tutte le anteprime di tutti gli ospiti che sono venuti ad outside ok metto grande brai anche se lo vediamo grande tutti dai qua ci sono gli ospiti dell'ultima stagione di outside gli ultimi sono quelli che vi dicevo Gianna Andrea Cichibe eccetera oddio allora io adesso dell'ultima stagione mi sono piaciuti tantissimo quasi tutti perché quando sai li ho scelti no? come vi posso dire ah un altro doppiatore è Mirko Cannella c'è grande Mirko grande Mirko c'è stato sulla puntata sulle fine serie tv c'è stato lui forse oddio vediamo anche Pietro Baldi e Giorgio Vanni allora posso dirti in quella puntata io avevo il covid e tu eri connessi e avevi uno schermo sì però sembrava che sembrava che stava seduto cioè una figata guardate che cosa assurda guardate che cosa cioè io ho messo pure le gambe finte eh sì ho visto è bellissimo è fantastico veramente cioè sembrava che stava in studio con le gambe finte lo schermo non so se avete visto è bellissimo è bellissimo vabbè allora ce ne sono tanti di ospiti allora chi mi è piaciuto di più raga è una domanda troppo complicata devo ammettere che anche se avevo il covid alcune delle puntate che mi piaciute di più è stata quella con Giorgio Vanni e Pietro Baldi sicuramente però sono fortissimi tutti e due sicuramente questa e poi poi insomma dov'è aspetta no questo qua è no scusate ho sbagliato perché sto usando la virtual camera di OBS per fare la streaming ecco scusate eccomi basta sono tornato eccoci qua e niente quindi dai la puntata che mi è piaciuta di più mi ha divertito perché forse perché ero a casa col covid e ero lì con le gambe finte è stato stranissimo vi siete ingegnati no con il monitor verticale le gambe le scarpe e lì c'ho Giorgio poi Giorgio è una macchina da combattimento è veramente numero uno gli voglio un bene nell'anima pensate che è stato ospite da me anche a The Box e lì non l'ho intervistato era fatto il guest ha cantato Diabolic Diabolic ah che bello quella band al vivo era gasatissimo perché durante la zona rossa non faceva concerti da una vita e quindi era proprio super gasato come se fosse Luca Comics no e lì praticamente abbiamo fatto un gioco finale l'ho messo in squadra con Reckings che è uno streamer di Twitch di Fortnite ed era una sfida di Mimo io ci chive contro Giorgio Vanni e Reckings ed è stato incredibile perché cioè Giorgio mimava si muoveva tutto e cercava di fare un Dominare Reckings che non capiva ma veramente un soggetto cioè se penso che l'Italia di mio padre è veramente più giovane di tutti è Giorgio Vanni ragazzi è più giovane di noi quattro messi insieme c'è una vitalità un'energia che io lo amo veramente e anche Pietro Pietro Grande è stata una bellissima puntata anche per quello no no capiamo bene perché insomma Giorgio l'abbiamo avuto poco fa è veramente esplosivo esplosivo ma noi Giorgio a un certo punto ci fa ma vi siete messi d'accordo perché hai visto noi abbiamo la avete il hoodie abbiamo la divisa con il nostro logo ricamato ma vi siete messi d'accordo poi dopo si è reso conto che ovviamente ognuno di noi ha i nomi ha detto no fighissimo ne voglio una anch'io e gliel'abbiamo gliel'abbiamo fatta avere gliel'abbiamo fatta avere proprio era felicissimo cioè quindi è The Man Under The Hoody The Man Under The Hoody è il merchandising ufficiale di The Man Under The Hoody giusto è giusto dico com'è com'è lavorare con Jody Red Tony allora gli A-Pants io ho coinvolto gli A-Pants l'anno scorso come scommessa ho fatto una scommessa perché praticamente dovevo The Box era incastonato da un pre-show e un after-show mezz'ora di pre-show mezz'ora di after-show e lo show di due ore al centro che era lo show principale tipo Tonight Show volevo creare un pre-show diverso gli A-Pants li avevo conosciuti per caso mi avevano mi erano piaciuti mi sono piaciuti i ragazzi e quando erano ancora un trio perché poi Jody qualche mese dopo è uscito dagli A-Pants parentesi Jody è figlio di Claudio Cecchetto che è lo scopritore manager chi è creato la 2DJ chi ha inventato Fiorello Giovanotti stiamo parlando vabbè a parte questo io quindi mi gaso con i ragazzi e dico raga voglio farvi provare a fare una cosa loro famosi per le reaction su YouTube dicevo allora mi sono inventato questo pre-show dove loro a un certo punto facevano la reaction di alcuni bloopers di alcune situazioni simpatiche della puntata precedente oltre a questo facevano la selezione di alcuni commenti della chat più simpatici facevano una top ten e alla fine di questo pressione mezz'ora Red Nose rappava gli ospiti che sarebbero l'anteprima della puntata la faceva il rap molto figa con la band era una roba super figa all'inizio hanno fatto una prova così poi dopo ci siamo allineati e hanno spaccato e mi sono piaciuti molto quindi io li ringrazio ancora per aver accettato loro lì hanno avuto la possibilità di vedere una realtà un po' diversa da youtube e anche a livello professionale ragazzi gli voglio un sacco bene quindi spero insomma è stata una bella esperienza come è stato è stata una bella esperienza poi ognuno poi ha preso la sua strada Jody sta facendo le sue cose da solo ognuno fa il suo però devo ammettere che è stata una bella esperienza che cosa ne pensi di arancia meccanica che domanda proprio io devo dire è un film pazzesco molto specifica sì sì preferisco il dottor stranamore il dottor stranamore google google lo conosco però insomma molto particolare è bianche e nero molto particolare come scelta sono un attimo stunnato particolare come scelta nel senso sei il primo che sento che preferisce il dottor stranamore è un gran film secondo me è un gran film però c'è anche arancia meccanica shining ad esempio uno dei miei preferiti shining che poi ha un milione di retroscena come film quindi è veramente bello no ho detto una cazzata è 2001 il mio preferito di cosa lo disse nello spazio bello bello quello veramente molto bello veramente incredibile frammenti di storia del cinema oltre a quello è arte allo stato puro cioè quella lì è arte ragazzi cioè non è che dice Brian Box arriva dice quella è cioè dici cazzo cioè ma veramente ce l'ha fatto davvero ma come cacchio ha fatto a fare sta roba non guardatelo con con l'occhio di no di quello che vediamo oggi quello in cui siamo abituati perché tutta la CGI di sto cavolo che c'è oggi non può non vale l'un per cento di 2001 secondo me e uno di altri dei miei preferiti di fantascienza è Blade Runner in realtà quello che non mi ha fatto così cagare il proseguo cioè a livello visivo era stupendo secondo me quello di poi ragazzi cioè Blade Runner vedi e come fai a rifare Blade Runner Dune invece vabbè ma Dune è una storia molto travagliata da Giudoroschi poi l'ha fatto David Lynch una storia incredibile quella che c'è dietro Dune devo ammettere che era molto bello a me è piaciuto Dune me lo sono un po' goduto beh adesso dovremmo uscire adesso adesso tra 30 anni oh Andres siamo scordati il jingle cioè è una cosa gravissima come il jingle vabbè fallo adesso adesso ragazzi della chat questa è una cosa trash che fa schifo che ci ricorda sì ci ricorda quanto non siamo professionali quindi la vogliamo sempre mettere per ricordare ragazzi anche se questa cosa è andata in diretta tra l'altro è andata in diretta con Yolanda Granato che tra l'altro è stata anche una speaker radiofonica molto forte Yolanda Granato se non sbaglio giusto ragazzi posso dirvi una cosa l'occhio mi è andato ecco ho una gravissima devo tornare indietro ok la mia serie preferita in assoluto è stata nominata adesso in chat e non so come ho fatto a dimenticarla Scrabbs fantastica e una delle mie preferite attuali è Ted Lasso Ted Lasso ancora lo devo vedere è anche Bill Lawrence che è uno degli autori di Scrabbs ancora lo devo vedere me la consigli Brian totalmente è un cazzo di capolavoro c'è già son su Davis no? è già son quella con la sua c'è Bill Lawrence che ha scritto Scrabbs è dentro Ted Lasso e si vede tutto ragazzi è una grandissima serie un'altra serie figa che ho visto è The Shrink Next Door sempre su Apple TV avete presente con Will Farrell e Paul Rudd no no però Ted Lasso la volevo recuperare ma invece è fighissima dimmi Andre scusa hai avuto modo di vedere Afterlife sì le prime due stagioni la terza ho visto solo le prime due episodi poi mi sono un po' fermato perché sto guardando Euphoria adesso ah il famoso Euphoria bello molto bello sia Afterlife che Euphoria secondo me sono e ce n'è una attualmente che è molto paurosa molto figa su Prime si chiama Dem Dem parla di una famiglia diciamo di colore che negli anni 50 si trasferisce a Compton ed è molto ho visto solo il primo episodio però purtroppo c'è troppa roba da vedere ragazzi infatti la vorrei assolutamente vedere perché ho Ted Lasso al primo posto ti vuoi divertire emozionare sapete com'era Scrubs no? sì 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 Ted Lasso e poi ragazzi il protagonista di Ted Lasso come cavolo si chiama Jason Sudeikis a me mi fa morire lui mi fa morire è proprio puuuu cioè ah l'avete visto Between Two Ferns no film Between Two Ferns è il Alikanakis com'è che si chiama quello di Zach Galifianakis quello di Na Notte da Leoni fa un talk show un late show trash su YouTube che si chiama Between Two Ferns ok ferns sono le piante quindi tra due piante se lo googolate vedete e su Netflix hanno fatto il film di Between Two Ferns e vabbè niente è fighissimo no dobbiamo guardarle anche quell'attore a me mi fa morire si ti ammazza ti ammazza da recuperare da recuperare entrambi poi la chat Brian ha per dirti un piccolo aneddoto su Scrubs perché noi non lo amiamo per niente Scrubs non siamo andati in fissa per niente con quella serie la chat sa che noi abbiamo un obiettivo ovvero noi organizziamo gli speciali solamente quando abbiamo una quantità di doppiatori ovviamente nel cast principale di una determinata serie ora attualmente non abbiamo tutti i principali ma stiamo lavorando per avere sempre più doppiatori dei personaggi principali di Scrubs fantastico la cosa fighissima sarebbe poi riuscire a fare una una mega reunion loro ed il direttore di doppiaggio almeno della prima della prima stagione delle prime due e rivivere insieme un po' quelli che sono gli aneddoti che ci sono stati raccontati qui e lì noi ad ora abbiamo il direttore di doppiaggio che è Carlo Cosolo esatto avete Cox JD e Turk abbiamo JD che è Alessandro Quarta che ormai è un abitué del canale anche quando è fantastico Alessandro e abbiamo è fantastica e abbiamo anche Chiara Colizzi che è Elliot allora ragazzi io se volete a Cox vi ci faccio arrivare eh non sarebbe male non sarebbe male perché abbiamo questo obiettivo della Scrubs reunion che è là è là però Brian allora siccome gli speciali li organizziamo o con fumettisti quando si parla di supereroi o con content creator con comunque altri intrattenitori quando si parla di altre serie qualora dovessimo organizzare lo speciale Scrubs c'è ci vieni assolutamente perché è stata la serie è stata la serie più bella che io abbia mai visto in tutta l'unità l'unica serie che in 22 minuti quello che è non lo so ti riesce a far piangere e ridere in una sola puntata l'unica serie che ho rivisto e sono 8 l'ultima stagione non esiste per me la nona no però wow e so che Zach Braff sta facendo durante la pandemia ha iniziato un podcast insieme a Turk che non mi ricordo il nome dell'attore che si chiama Two Doctors Big Friends o qualcosa del genere e fanno questo questo podcast di reaction o di rewatch delle puntate di Scrubs quindi gli attori che hanno pensate quanto sarebbe stato figo vederle in inglese conoscendo bene l'inglese nel senso madrelingua pensate i doppiatori italiani hanno fatto un lavoro incredibile se ci pensate perché non è facile poi erano altri anni di doppiaggio però bisogna anche ammettere che i tempi che ci sono nel doppiaggio oggi e io non sono un esperto non sono gli stessi che c'erano una volta era molto più dilatato il lavoro adesso invece c'è una caterba di roba da doppiare e si fa proprio un po' catena di montaggio adesso e l'hanno detto quei pochi doppiatori che ho conosciuto mi hanno tutti confermato che è così ma la cosa bella sai qual è è che adesso quando noi almeno le prime volte lo domandavamo poi abbiamo capito che effettivamente la risposta non andava a cambiare molto adesso si è persa una cosa che invece è stata la forza secondo me di Scrubs cioè quando tu senti Turk e JD che cazzeggiano fra di loro perché poi è così e cioè devi immaginarti a Legio Alessandro IV e Nanni Baldini che cazzeggiano e che tante volte sono stati cacciati in un certo senso o cazziati da Carlo Cosolo chi diceva ragazzi però dobbiamo cioè dobbiamo portare a casa non potete giocare non sono personaggi facili cioè Cox ha dei monologhi assurdi cioè assolutamente la velocità con cui devi dire certe cose e con quella faccia che poi ragazzi vabbè basta dai stiamo parlando di Scrubs bellissimo Scrubs sta là allora ragazzuoli la nostra politica del non sequestrare gli ospiti vale anche stasera quindi io farei le ultime due domande dalla chat e poi andiamo in chiusura ricordiamo insomma gli appuntamenti e ci salutiamo mi avete stremato però è stato molto bello è stata la più bella intervista che non ne ho fatte tantissime però che mi abbiano mai fatto quindi vi ringrazio che cosa bella che ci hai detto grazie a te insomma per i complimenti è stata una bella serata e adesso capisco perché quando finisco i miei show le puntate gli ospiti sono inebriati cioè è proprio figo permettere alle persone di dire quello che che sentono cioè in generale no è molto guarda che non è scontato io dall'altra parte non me ne rendo conto no alla fine fai si fa un lavoro molto particolare cioè riesci proprio a cioè alla fine è terapeutico parlare no sono sono d'accordo soprattutto in questi periodi insomma sì 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 anche la terapia non basta mai vabbè se hai lasciato una domanda raga non ci rimango male non vi preoccupate non mi fa piacere ci sono qua abbiamo dai sì facciamo gli ultimi due che già le ho viste sequestriamo gli ospiti no Willow no no abbiamo già chiarito questa cosa facciamoci arrestare io l'ho detto una rapina un sequestro ma fatti arrestare te cioè io voglio stare fuori ma perché no fuori ma rinchiuso in questa cave cioè tu sei quando in galera va al limite ti porti il cellulare e fai stream da là esatto non posso mancare l'appuntamento io con la cell anzi fai anche cioè vuoi mettere invece della game room cioè tu ci avresti proprio una cosa unica la jail room la jail room comunque Brian c'hai tre frasi storiche tu stasera hai tanto siamo arrivati arrivati alla fine che c'è frega credo che game of thrones sia beautiful coi draghi e degusti bus ragazzi l'autobus degusti cioè questi oddio è diventata una frase sono anni che la utilizzo con freddura e invece noi è la prima volta che la sentiamo quindi ci è piaciuta la inseriamo adesso ti perseguiterà allora è mia possiamo dire che è mia finalmente è tua è tua è tua e allora prima che vedo streamer di man under the hood preferito c'è una sola risposta esatta ovviamente Lorna giusto Brian beh spero di sì scusami ma ho capito che lo volevi sposare tu Brian ma ovviamente Lorna ti piace lo stile steampunk ti chiede Michele Final Fantasy 7 è stato il mio preferito quindi voglio dire mi è piaciuto un casino cyberpunk 2077 giocato al pc quindi non lo disdegno quindi giocato l'ho finito no no nel senso giocato perché su console almeno ai primi periodi sì su console faceva cagare ma io lo usavo su pc quindi l'ho proprio divorato quel gioco mi è piaciuto un sacco Luciano Luciano che cosa dici quella di beautiful coi draghi la dicevo io prima che cominciassi game of thrones e tu sei quello che dice game of thrones meravigliosa guardatela assolutamente ma è meravigliosa fatemi svelare sta cosa Luciano per farmi iniziare a guardare game of thrones Luciano sei una bruttissima persona ha cercato in tutti i modi di farmela guardare a un certo punto mi arriva su telegram messaggio di Luciano con una foto vado a aprire era la protagonista che è come si chiama Emilia Clarke completamente nuda e mi fa ecco guardatela adesso io non so a tu che considerazione la serie per Daenerys nuda che è porna ma poi tolto quello io non so Luciano tu che considerazione abbia di me però insomma non è che quello mi faccia guardare ma poi insomma che bella considerazione di game of thrones esatto però scusa man in live ci sei stato a fare il drago di Daenerys vabbè c'avevamo la doppiatrice come si chiama il personaggio la bisogna prestarsi non mi ricordo c'era Giulia Parquini che fai me lo chiede ho fatto ah cioè non è che ho fatto il drago che carino però a te è piaciuto che ho fatto il drago di la verità eh sì ci stavi benissimo guarda ti assicuro eri un fantastico draghetto mettiamola così era un fantastico draghetto però anche basta la domanda conclusiva io andrei a quella che è questa allora io ti chiederei una o più cose del tuo campo che non ti piacciono e preferiresti fossero diverse cioè del proprio parliamo del settore ce l'hai no guarda minchia ci hai combattuto tutti i giorni ed è ed è il cancro del nostro è il cancro dell'era moderna dell'era social si pensa che i follower siano un metro di di giudizio per la professionalità e la bravura delle persone è una cazzata perché perché la fama non sempre vuol dire no essere so che sto dicendo una cosa scontata però nel mio lavoro questa cosa purtroppo conta tanto ultimamente e seppur io sia molto bravo a fare quello che faccio me ne rendo conto me lo sto dicendo anche cioè sono una persona anche oggettiva è vero diciamolo sono un bravo conduttore ho tanti 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 anni di esperienza di gavetta ma ancora oggi a volte si prediligono persone con tanti follower anche solo per una scelta lavorativa che ovviamente nella maggior parte dei casi è un flop a livello contenutistico ma magari ha un'ottima conversione diciamo dal punto di vista numerico non so se sto divagando troppo però è per farvi capire quello che non mi piace del mio lavoro e anche posti come la radio ma come qualunque cosa ho visto fare scelte anche di personaggi che magari entrano per una questione numerica e non hanno magari un'effettiva qualità professionale no poi c'è chi lo sa è consapevole di questo ci sono anche esempi se non voglio fare nomi ma esempi di chi invece poi si è messo in gioco ha imparato quindi può essere un buon modo per avere una possibilità però tante volte ci sono dei meccanismi anche di di relationship come ti posso dire di favoritismi favoritismi dovuti a marchette ma io adesso non voglio rovinare la poesia del momento però sicuramente il cancro più grosso del mio lavoro nell'era digitale sono i follower i follower quindi bisogna convincere che sei bravo devi impegnarti il triplo no per convincere c'è sempre un muro da abbattere poi però io credo che tante volte il passaparola sia più potente di qualunque altra cosa detto ciò sicuramente i follower sono un cancro no non sono non sono monito di di qualità è una cosa molto bella questa che ha detto triti non farci il ride perché siamo chiusura te lo dico perché c'è c'è una c'è una un aneddoto ieri gli ho fatto il ride a triti ciao triti ciao triti e lei mi ha detto guarda so due volte che ti ho fatto il ride tre secondi dopo che hai staccato ha detto la prossima volta io vengo da te e ti dico sei in chiusura sì siamo in chiusura grazie mille come se ce l'avessi fatto ma non farci il ride siamo in chiusura un abbraccio ovviamente triti grazie mille per il pensiero se ti sto ascoltando un messaggio vocale se no che non ti ho sentito stai ascoltando ma che brutta persona sei triti cioè mi scrivi e poi non mi ascolti vabbè ascoltati il messaggio basta ci sono rimasto male non ti saluterò più in diretta sappi comunque no dai ti saluto questa è la cosa che mi fa un po' incazzare vado a piangere ciao esatto piangere cosa Brian ho chiesto triti guarda ti metto il follow adesso guarda seguita oh hai visto triti cioè ti sei guadagnato anche il follow di Brian cioè veramente guarda che fortuna solo alta qualità qui cioè sono eccellente segui quindi cazzo cazzo cioè comunque grazie per il pensiero questo è la cosa negativa è questa no è è bello che si dicano anche queste cose cioè nel senso follower non equivale automaticamente a qualità sembra uno poi sembra uno rosica perché non c'hai follower non è una questione di rosic raga cioè c'è tanta gente ultra famosa scusami se tu ho interrotto ma perché se no uno dice eh ti lamenti ma sei qua a dire sta cosa perché no io sono qui a dire questa cosa perché purtroppo ho avuto dei riscontri lavorativi in alcuni casi anche ultimamente dove magari non sono stato scelto per una questione numerica non per una questione contenutistica o per una questione professionale poi viene scelto per quel lavoro e dice ok a livello di content è lo nulla cosmico capito basta sì 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 no 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 infatti uno non lo dice assolutamente per quello poi insomma non io cioè non tu però uno può pensarlo capito che poi è una cosa che torna anche in altri settori nel senso che non solo appunto come dici tu no dici magari uno dice vabbè tu fai questo ragionamento perché non hai i numeri quando l'abbiamo sentito per esempio applicato al mondo del doppiaggio è stato detto anche da persone che effettivamente hanno i numeri sui social cioè nel senso i doppiatori nella maggior parte non sono molto seguiti però quei pochi che sono seguiti sono molto seguiti anche loro fanno questo ragionamento dicendo non prendete gente solo per il follow cioè per quanti follower c'è gente anche brava con i follower eh Andrea adesso ti faccio un esempio di una stories che ho visto di Maurizio Merluzzo che conosco è un amico venuto anche a The Box li voglio bene e di Pino Insegno insieme al programma fighissimo Voice Anatomy che faceva Pino Insegno su Rayplay credo comunque in seconda serata praticamente erano nel backstage e Pino Insegno aveva 60.000 follower e Maurizio ce ne aveva 500.000 Maurizio è il primo a dire oh però è Pino Insegno io sono figlio di quest'epoca sono Maurizio Merluzzo sono un personaggio famoso a livello social però Pino Insegno è cazzo di Pino Insegno cioè capito cosa quindi cioè questo è un paragone importante Pino Insegno 60.000 Maurizio bravissimo però chiaramente Pino Insegno ha capito si 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 ha fatto Pino Insegno faceva la televisione che lo conosceva lo conoscono tutti quando non esistevano i social è normale che Pino Insegno ha 100.000 non lo so adesso non ho guardato si ma appunto ripeto anche loro diciamo sottolineano anche loro che magari hanno numeri importanti cioè Maurizio avrà tipo un milione di follower l'unico penso il doppiatore più famoso cioè a livello di social però anche lui per esempio quando fai discorsi dice spesso soprattutto di recente e soprattutto per gli anime dice non prendete gente a caso esatto prendete gente brava che poi la persona brava possa avere un milione di follower è un altro discorso esatto ma tu la prendi perché è brava non perché è seguita e purtroppo va specificato oggi come oggi perché c'è tanta confusione soprattutto nel mondo del marketing si 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 il contenuto dicono tutti che la cosa è più importante è vero ma oggi si sceglie per i follower perché si vuole tutto subito però non è un quality content ok e quindi alla fine secondo me è un cane che si morde la coda cioè prima o poi imploderà questa cosa capito e per forza di cosa deve implodere chiaro chiaro no no sono sacrosanto cioè sacrosanto assolutamente parole sante ma tanto che me frega io sono ateo io sono ateo Roberto ci voglio ringrazio Tommy perché ha scritto mi è piaciuto l'intervista con Nelson e Cesare grandi ammiratori di Space Valley ho avuto gli Space Valley ospiti ad The Box l'anno scorso loro due veramente fighi anche loro devo ammettere che hanno un bel progetto bene bene ragazzi ragazzi andiamo in chiusura non sequestriamo Brian assolutamente assolutamente allora prima di andare in chiusura salvate lo streamer Brian salvato Brian mi prendevano per il culo così quando ero più piccolo ah scusate c'era Fanpage mi chiedeva vorrei ringraziare salutare Brian e dirgli pec nu se menù no perché nu se menù e questo è Pescarello perché noi siamo noi ah ok grande tipo il Marchese del Grillo io so io e voi cioè il significato è tipo il Marchese del Grillo cioè io so io e voi no allora quello è un po' più diciamo un po' più altolocato anche se poi non lo è invece è proprio un modo di dire Pescarello perché nu se menù noi siamo così ah ok arrosticini vino gnagna e calcio cioè il mare questo chiaro chiaro allora ragazzi come al solito ringraziamo tutti voi che avete seguito la live fino adesso i nostri fantastici mod che grazie a tutti tengono pulita la chat i nostri VIP i miei streamer però ovviamente stasera il grazie più grande va Brian alla sua disponibilità grazie a voi una bellissima serata speriamo che ti sei trovato bene insomma che addio raga ve l'ho detto è stata guarda devo trovare un modo per risalvarmi questa live per averla come ricordo magari me la girate non so ci pensiamo noi ci pensiamo noi te la facciamo avere piacerebbe perché è stato veramente un bel ricordo mi ha permesso di dire delle cose che non non spesso dico ve l'ho detto all'inizio cioè non non mi capita spesso di raccontarmi odio molto essere autocelebrativo in un'intervista devi esserlo per forza di cose no? quando ti intervista certo ci sono alcuni miei colleghi conduttori che sono autocelebrativi mentre intervistano gli ospiti sono dei pirla non hanno capito come funziona sto gioco l'altra regola che ho imparato poi vi saluto con questa è che in un'intervista e voi siete stati molto bravi in questo ve lo dico ve lo dico da professionista adesso e quindi sto apprezzando quello che avete fatto bisogna far parlare l'ospite non bisogna parlare sull'ospite e ci sono grandi conduttori che lo fanno e purtroppo secondo me è la cosa peggiore l'ho imparato l'anno che sono stato è stato un anno ad amici con la radio ogni sabato andavo lì per fare le interviste durante il pomeriggiano è stata una bellissima esperienza molto complicata perché loro sono una macchina da combattimento quella produzione lì Maria Fascino tutti quanti lì ho imparato a fare le interviste ho intervistato chiunque da Ricky Memphis a Tom Walker a chiunque a chiunque a Garrison piuttosto che Giuseppe Ferreri e Gali e lì ho imparato che meno parla il conduttore più viene fuori e quindi siete stati molto bravi è per questo che uno si sente a proprio agio quando viene qui grazie grazie che bella cosa noi ci prendiamo questi complimenti e ce li portiamo a casa ovviamente poi da Brian valgono triplo allora prima ovviamente il grazie più grande a lui e ricordiamo dato che ce lo chiediamo che c'è domani ricordiamo gli appuntamenti al volo dei Talks di tutti i format perché i Talks sono i Talks allora domani abbiamo uno speciale su un film che a noi è piaciuto molto che racconta la vera storia di Jonathan Larson che è diciamo colui che ha creato Rent che è Tick Tick Boom avremo con noi Lorenzo De Angelis che è il doppiatore di Andrew Garfield Davide Perino che molti di voi lo conoscono per essere il doppiatore di Frodo di Newt però in questa veste fa il suo protagonista Michael avremo a parlarne con noi anche Alberto Pagnotta che è un content creator che darà un po' il suo occhio critico sul film e prossima settimana avremo Margherita De Risi che è Lunedì che è Jinx per esempio di Arcane esatto Siri di The Witcher Mirabelle di Encanto ma anche Catwoman è stata lei in Gotham e martedì invece Stefanella Marrama che è la voce di Clara Clayton in Ritorno al Futuro se non mi ricordo Penny Fleck Clarisse in Hannibal un bicchiere di quella che piace a te oltre tutto quella che piace a me Julianne Moore ma tra l'altro lei vi dico una chicca è la direttrice di doppiaggio di una serie che io ho amato alla follia mi ha fatto ridere tantissimo che è Psych adesso non so chi di voi ha visto il detective sensitivo c'era Sean Spencer il protagonista fatto da Crescentini e ritorna qui Alessandro Quarta perché Barton Gaster era doppia da Alessandro Quarta ed è una serie e tra l'altro c'era anche Andrea Lavagnino il prof della casa di carta che in quella veste era il detective quindi le farò molte domande su questo che anni era ambientata in che periodo storico forse il 2000 2000 e qualcosa 2000 gli anni 2000 allora non sto sbagliando quindi insomma questi sono gli appuntamenti dei Talks per questa è la prossima settimana non abbiamo una programmazione però già a marzo parecchio abbiamo spoilerato però lasciamo qui Sean e Gas brava Will Lassiter la conosci grandissima grazie Brian torna presto cioè grazie grazie a voi grazie a chat dai assicurato che qualora riuscissimo a organizzare lo Specialist Scraps è il primo che contattiamo io volentieri volentieri davvero bene buonanotte a tutti un abbraccio a domani aspettate dobbiamo chiudere grazie Lorna grazie amici dobbiamo chiudere con una cosa ti ricordi sentite tutti io tor dio del tuono vi saluto questo è Massimiliano Manfredi che è la voce ufficiale di tor nell'MCU che ha doppiato un nostro streamer in diretta dicendo questa ne abbiamo estrapolato abbiamo deciso di chiuderci quindi buonanotte a tutti a domani ciao